W.R.N. presenta Border Knights, la notte ai confini La traccia dell'Oscala della rata Dio è stata un'accomandante E' stata chiesa una violenza E' stata chiesa di rata I.M. presenta Anno, a G.M. presenta ? intro BORDERLANDS La notte ai confini Una voce può raccogliere una vita che a volte sfugge Una voce può raccogliere una vita che a volte sfugge Una voce può raccogliere una vita Una voce può raccogliere una vita che a volte sfugge Una voce può raccogliere una vita 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 Quando era andato in un viaggio in Uruguay Insomma gli avevano annunciato Diverso tempo fa Quello che sarebbe accaduto Partiremo da questo E poi chiaramente allargheremo un po' Il discorso Poi nella seconda parte invece Torneremo a parlare della musica A 432 Hz Uno dei nostri temi Portanti No ma ce ne siamo occupati diverse volte Nella storia di questa trasmissione E stasera sarà con noi Un famoso musico Terapeuta Compositore Sto parlando di Rino Capitanata Ascolteremo la sua musica Ma con lui ci sarà anche Roberto Romiti Roberto Romiti Come si difisce lui Un pubblicitario esoterico E' stato per vent'anni Proprietario Editore Quindi con una nota A casa editrice La BIS Edizioni E' stato anche Prima ancora anche direttore Dell'età dell'acquario E adesso ha scritto un libro Che si chiama Anzi il sottotitolo è La musica ci salverà Come superare Come uscire dal paura virus Questo è un po' il tema Del suo libro Con loro ci sarà anche Paolo Franceschetti Che poi rimarrà E questa sera Continua questo filone Per lui anche Un po' scomodo Barra disturbante Perché ci racconta Che quando si occupa Di questioni Legate a Satana Lucifero Eccetera Poi gli capitano Delle cose stranissime Che ci racconterà Durante la puntata Quindi Tom Bosco Con le sue notizie E poi E' l'ultimo martedì Del mese Anzi scusate Il primo martedì Del mese Di aprile Stiamo confondendo tutto Primo martedì Del mese E quindi tornerà Germana A Corsi Molto Molto Bene Tra poco Omaggeremo Anche Cominciano ad essere Tanti Purtroppo Gli ospiti Che Lasciano il corpo E Qualche giorno fa Scusate Proprio Uno di voi Ci ha comunicato Che Appunto Aveva lasciato il corpo L'ingegnere Luciano Pedersoli Che avevamo ospitato Tante volte Era venuto anche Al nostro live Il penultimo live Prima dell'interruzione Per le note vicende Quello che facemmo In Umbria E Luciano Pedersoli Faceva parte Dell'associazione Event Lab Dove facevano Proprio una ricerca Scientifica Molto seria Anche attraverso Le ipnosi Ma non solo Per documentare Il fenomeno Ah Il fenomeno Delle cosiddette Esperienze Fuori dal corpo E ci raccontò Insomma Alcuni di questi Esperimenti Se non ricordo male Anche siccome Era stato ospite Tre o quattro volte Ascoltammo Anche alcune Registrazioni Comunque Tra poco Ascolteremo Proprio Le prime parole Che ci disse Quando venne qua La prima volta Era L'autunno 2017 Ovviamente Ho già fatto in privato Le condoglianze Alla La moglie Alla famiglia E poi sicuramente Dedicheremo Magari sul Canale youtube Magari un collage Proprio di tutte Le partecipazioni Di luciano Nella nostra Trasmissione Andiamo a salutare Intanto Da cento giorni Da leoni Riccardo Ciao Riccardo Ciao Fabio Buona serata a tutti Buona serata Buona serata A te E allora Si attendeva Un po' No Riccardo La Al di là Che appunto Noi pensiamo Che Non c'è Questa contrapposizione Perché sostanzialmente L'agenda È più o meno La stessa Però si attendeva Chiaramente Nel In quello che è Il gioco Delle parti Tra virgolette No Un evento Scatenante Un qualcosa Che Che potesse No Portare magari A un escalation O di sanzioni O di Altri scenari E non so Se è stato Questo qui No Di quello Che è successo In questa Questa zona Dell'Ucraina Dove adesso No C'è Da una parte Il mainstream Che attacca E il contro mainstream No Che invece sostiene Con Russia compresa No Che sia stata Tutta una Una messa in scena Tu che idea ti sei fatto Ma guarda Più che un'idea Mi sono già rotto le palle Di parlarne Non so te Fabio Sì Dell'Ucraina Della Russia Sì Ovviamente È l'elemento Portante Però Cosa vuoi dire Cosa vuoi aggiungere Di buca Di buccia Mi buccia Il culo Mi buccia Esatto Ti brucia Purtroppo brucia Gli italiani Il culo Il buccia Perché purtroppo Si fanno sempre Silurare Le mass media Non tutti Per fortuna C'è sempre una proceduale Che non riguarda più Ed è sempre più grande Questa è una Davvero Delle cose più belle Che stanno succedendo Però Che li vedi Per strada Dico Hai visto Cosa ha fatto Putin Hai visto Ammazzi i bambini Cioè Io vorrei fargli vedere I video Della Nato Quando erano in Iraq Quando erano in Afghanistan Quando erano in Siria Cosa facevano O i soldati inglesi Si divertivano a fare Il cecchinaggio Sui bambini Per giocare Che li avvicinavano Con l'acqua E poi gli sparavano sulle gambe Cioè Io non so Sinceramente Dove hanno vissuto Queste persone Però probabilmente Vivono in quella Ampolla di vetro Di Natale Con la nevette Che gira a destra A sinistra E ci facciamo Ciondolare Dai mass media E questo è un po' Il discorso Ma su altre cose Guardano me neanche parlando Perché tanto Ce le raccontano come voglio Sia da una parte Che dall'altra Non ci sono mai I buoni e i cattivi Sono gli interessi In gioco Vabbè Assolutamente Però È chiaro che Le persone In parte Stanno Alcune Stanno Stanno capendo Più che altro Che al di là Appunto Di quale siano Le ragioni effettive Poi del singolo episodio Hanno capito Comunque Che C'è una grande Una grande Mistificazione Perché Questo vale Cosa faceva appunto Io personalmente Forse l'abbiamo già Raccontato Comunque Quando ero adolescente Per dire La 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 Quella La guerra Nell'ex Jugoslavia L'attacco L'avevo vissuto male Nel senso Proprio Una cosa Che proprio Non potevo concepire Così come Gli attacchi Gli attacchi Seguenti Noti però Perché a me piace Anche un po' Andare a mettere Il dito nella piaga Anche nelle Contraddizioni Si può dire però Che Quando Invece La Russia Che comunque Per ragione Non ragione Insomma Comunque È entrata In questo In questo territorio Quindi Di fatto Ha iniziato Ha iniziato Una guerra Sembra quasi Che però Venga considerata Con meno fastidio Rispetto a quando Lo fanno Gli Stati Uniti Sempre parlo Mi riferisco Nella platea Di chi No Ha criticato Sempre Appunto Gli Stati Uniti Che ha Un'avversione Giusta Per quello Che hanno Fatto C'è questa Tendenza A considerarlo Meno grave Ma perché Come vedere Di nuovo La sinistra E la destra Da un certo Punto di vista Si scontrano Di nuovo Finalmente Questa battaglia Epocale Quindi comunque Per tutto quello Che è successo Alla Russia Alla fine Uscirà Vincitrice Ma in realtà Non la stanno Neanche così Colpendo Io non vedo Che ci sia Hanno fatta In Italia Una propaganda Blasfema Per alcuni Punti di vista Perché mai Avrei pensato Di assistere A certe parole Di Maio Ma anche Di altri Ma in realtà Sta cambiando Velocemente Un po' La linea Un po' La bussola Della situazione Cioè Cominciano A esserci Ospiti Televisivi Che ne parlano Tranquillamente Con il covid Si sta La calma piatta Per due anni C'è un'unica voce Invece Velocemente Si sta già Spostando L'attenzione Tra Si Putin No Putin Ne abbiamo sicuramente Già parlato Però fa comodo Capito Distrarre Tutto ciò Finché ci arriva Il gas naturale Dagli Stati Uniti Gas naturale Gas liquido Dagli Stati Uniti Fanno dei cambi Di rotta Clamorosi A livello monetario E intanto Il gas Si paga In rubli Cioè Quindi alla fine Lo fanno i loro Giochetti Le loro trattative E scaricano Su di noi E stiamo qui a dire Eh ma hai visto Putin Che cattivo che è Ma Biden È uno scorreggione Cioè Qui siamo purtroppo E lì la fanno Vittoria purtroppo Sempre Eh anche perché Se cominciamo Poi a dire No Appunto O si parlava oggi No di Di Dazio Comunque di Vietare Anche di importare Determinate Materie prime E E questo porta Comunque inevitabilmente A L'ha messo anche Bonomi No di Confindustria Che oggi ha detto Ha parlato No di un Percentuale di aziende Che chiuderanno Facendo i conti Anche con le statistiche Che ha dato Ha detto sostanzialmente Che metà delle aziende Gli sia di chiudere Sì Il cervello di italiani Si è chiuso purtroppo Cioè Confindustria Come Confcommercio Come altre Con i postumi Dei cadaveri Che hanno assistito A realizzarsi Nei ultimi anni Perché Queste battaglie qui L'hanno fatta Due anni fa Conciano tutti i segnali E invece Hanno Mantenuto La La situazione Sono addirittura Aumentando La volta Perché davvero Sono stati i portavoci Più loro Di certe campagne Allucinanti Ma come quelli Gli albergatori Che ho assistito Personalmente Una diretta video In cui diceva Guai a voi Se non vi vaccinate Cioè A tutti i dipendenti Agli albergatori Agli fatti Tutti quanti Cioè purtroppo Non si rendevano conto Che entravano Forse se ne rendevano conto Perché è ancora peggio Di quello che stava succedendo Quindi tra qualche anno Faremo i conti Su I cadavri Degli imprenditori E magari su questi Certi Baluardi O grandi Personaggi Che vestono Queste belle poltrone E magari Gli farei un bel controllino Su quello che hanno guadagnato In questi anni Ma ovviamente Che succederà mai in Italia Parlavo Qualche giorno fa Con uno di noi Che tra virgolette E che Lui è Orientato Cioè È preoccupato Proprio Del fatto che Potrebbero esserci problemi Poi in futuro Magari non nell'immediato In futuro Anche dal punto di vista Magari Alimentare E lui dice Secondo lui L'unica soluzione Appunto Come dice Perché Questi membri Dell'elite No Si sono messi a comprare Terreni Quindi secondo lui La soluzione sarebbe Quella appunto Di comprare Un terreno E avere almeno Che so La zucchina Che poi magari La scambi La bagatti No Con Che ne so Lui diceva Con mezzo pollo A seconda dei gusti E delle sensibilità Tu vedi Questo rischio Come reale Oppure no Cioè quello che potrebbe Eserci anche una crisi Di tipo alimentare Ad esempio Oppure comunque Spauracchio Per alimentare i prezzi Solo per aumentare I prezzi Della giustificazione Quindi ovviamente Crei un eccesso Di richieste Di alcune materie Alcuno le fa venire Apposta Crei comunque Sai Appunto Lo spauracchio Del blackout E tanti Si stanno organizzando Il problema è che Finché Dalla testa Ti arriva Cacca Se non veleni Se non plastiche Se non altro Purtroppo Non c'è Un'alimentazione sana Se ci pensiamo bene In Italia O in Europa Dovremmo alzare La testa del cielo Ogli tanto Non è semplice Ne alimentarsi bene Sicuramente Tutti quanti Dorebbero Organizzarsi E già tanti Lo stanno facendo Tra qui Sottoscritto Non so Tu Fabio Emani Sei anche più portato E abiti in mezzo Però hai capito Tutti dovrebbero avere Un piccolo orto Una gallina Che ti fa le uova Cioè Avere Essere almeno Potere sopravvivere Perché sopravvivere Vuol dire Sopravvivere Che senza Iphone Quello è il problema Per gli italiani Non in cibo Purtroppo Ecco Quello poi Che Noi lo sottovalutiamo L'Iphone Come Smartphone Vaghi E' una forma Cioè Veramente E' una forma Incredibile Non so Se è stata creata Per questo O se è un effetto Collateale Tra virgolette Però veramente Immobilizza Totalmente Le persone E' pazzesco Perché è il festival Dell'euquicismo Cioè Alla fine È un Iphone Un telefono Smartphone Uno specchio Che ti fai i selfie Che vai su Instagram Che fai vedere Quanto figo sei Quando in realtà Sei una nullità cosmica E questo Fabrizio E gli sfigati Purtroppo Si è resi conto Che siamo pieni Gli sfigati Tutto qua Eh beh Si soffia Su quella Che è la parte Egocentrica Tutti che Sono diventati Dei piccoli Sindrome da cazzo corto Che poi Non è detto Che sia appunto Come dici tu Può essere un allarme Oppure Sempre questa persona Mi diceva Anche non ci fosse La carestia Però Magari C'è una cosa Tipo Green Pass Nel senso che Dovrai Appunto Rispondere A determinati Input Se vorrai Continuare ad avere Determinate cose Quindi magari Le cose ci saranno Anche Bisogna vedere E chi li vuole Cioè tu li vuoi davvero Tu avresti i servizi Dello Stato Cioè vuoi ancora Andare in scuola Nella scuola pubblica E ancora voglio Di farti curare In ospedale pubblico E questo discorso E non fare Il Green Pass È stato Avallato in Italia E avrai steso Alla Spagna Avrai steso Alla Francia Avrai steso Alla Germania Vedrai Noi siamo il paese Prova Qui ha funzionato Perché i poveri Coglioni italiani Sono fieri Di mostrarlo Esibirlo Anche per comprare Le sigarette E quindi Cosa vuoi fare E il popolo Che si sta Praticamente Ha deciso Di fare Ha deciso La propria fine E la massa Ne fa la padrona E loro giocavano Sulle masse E sulle masse Non ho lavorato bene Purtroppo Ho visto un video Penso che L'avevo già visto Ma mi è ritornato Credo sia Di un certo Il ficcanaso Su Rumble Che Non so se è roba sua O Semplicemente Insomma L'ha ricaricato Comunque La tesi di questo video È che Il Game Pass Con L'identità digitale Che racchiude In quanto strumento Servirà A una sorta Di comunismo Ma non il comunismo Quello Originario Che aveva anche Sicuramente Degli ideali Ma qui Un comunismo Inteso Come Usurpazione Proprio Della proprietà Privata Tu ce lo vedi Il collegamento Tra Green Pass E una cosa del genere Ma certo Tu pensa solo Un ristoratore Che controlla Green Pass Ogni sera Voglio dire Vabbè Stasera faccio Cinque scontrini Su cento E bravo Mona E tu Mi avrei appena fatto Il controllo A cento Alcuno Non si andrà Neanche conto Capito Di cose Cose In cui Stanno entrando Però Quando glielo Fai notare Ma va Ma figurati E poi dai Cosa vuoi La privacy Abbiamo già gli smartphone Hai capito Quello è il discorso Che ti fanno E allora Niente ragazzi Allora Facciamo Impacchettiamo tutto Prepariamo Un bel curriculum Per Amazon E andiamo a lavorare Perché questo è il futuro Dell'Italia E anche lì Ci sono mai Nei Stati Uniti Quei negozi Automatici Ma è che loro Stanno morendo Ma certo Ci saranno I shop box Di mostrare Il green pass E ti uscirà Qualcosa Da mangiare O da bere O da comprare Sono dei robot Sono macchinette Self service Per il momento del futuro Ma questo è Quello che l'Europa O gli europei Hanno voluto Perché stava a noi Dire no Cago Riccardo Grazie E alla prossima settimana Stasera Comunque voglio dirti Fabio ha fatto poker Poi ci sono Rocchesso Frabetti Giovagnoli Franceschetti Famiglia La famiglia Bene Grazie A presto Ciao Riccardo Ciao a tutti Buona serata Vedete Vedete Ci crea casini Anche poi Del resto Della trasmissione Pare che è successo Un problema Al computer Anche il maestro Di dietrologia Ha un computer E ha dei problemi Speriamo che insomma Li possa risolvere Però io adesso Ci tenevo molto A riascoltare In omaggio In memoria Di un ricercatore Serie Di un grande uomo Come Luciano Pedersoli L'inizio L'inizio della sua Partecipazione Del 2017 In cui ci presentava Proprio Questi esperimenti L'associazione Ivelab Ne ascoltiamo solo Una piccola parte Giusto per risentire La sua voce Ma prossimamente Insomma In questi giorni Sul canale youtube Di border nights Faremo un collage Di tutte le partecipazioni Di Luciano Pedersoli Da noi Davvero una Brutta perdita Questa Che C'è stata È anche un'epoca Di Tanti Tanti ricercatori Che abbiamo perso Negli ultimi Negli ultimi anni Risentiamo allora La sua prima partecipazione A border nights Caso Se di caso Si può parlare Cioè Nel 2012 Occasionalmente Ho conosciuto Anzi Ci siamo conosciuti Con un professore Degli università Di Padova Di psicologia Di psicologia Generale Che si chiama Patrizio Tressoldi Che si è sempre occupato Di scienza di frontiera Intendendo per Scienza di frontiera I fenomeni Che Con Termine Sbagliato Vengono chiamati Paranormali Ma che in realtà Si possono considerare Normali Sotto certi punti di vista E allora Sono riuscito a trovare Grazie a un signore Molto gentile Dei locali In cui abbiamo costruito Un laboratorio Un laboratorio Che non è grande Però È Attrezzato in modo A poter fare Studi abbastanza Ben qualificati Soprattutto Su alcuni argomenti Gli argomenti Ne abbiamo discusso a lungo Prima Prima Di Decidere Cosa fare Devo fare Una breve Parentesi Teniamo conto Del fatto Che la scienza Ufficiale Crede Soltanto A ciò Che viene Ricavato Con il metodo Scientifico E con apparecchiature Scientifiche Quindi Visto che Noi ci volevamo Occupare di qualcosa Di un po' Fuori del normale Abbiamo deciso Di iniziare Con un Un argomento In particolare Cioè L'influenza Della mente Sulla materia Questo Questo fatto Era già stato Dimostrato In realtà Fin dagli anni Sessanta All'università Di Princeton Negli Stati Uniti Erano stati Fatti degli studi Sull'influenza Delle emozioni Delle forti emozioni Di Un vasto numero Di persone Su fenomeni casuali Tanto Che Avevano messo a punto Dei circuiti Elettronici Che poi Sono entrati In produzione Di serie Ad opera Di un'azienda Che si chiama Pfeileron Che inizialmente Era una Una Delivazione Dell'università Poi è diventata Autonoma Questi Circuiti Adesso Vengono venduti A un prezzo Anche accessibile E vengono Chiamati REG R E G Random Event Generators Cioè Generatori Di eventi Casuali Gli eventi Nel nostro caso Sono dei bit Cioè Dei segnali Che possono essere O1 O 0 Questo dispositivo Genera Una sequenza Una stringa Di 200 bit Che normalmente Sono 101 E 100 A 0 E la probabilità Di Scostarsi Dal rapporto 100-100 Ad esempio Di raggiungere 98-102 È perfettamente Calcolabile E la si conosce Perfettamente Bene Questo dispositivo È un'ottima Gabbia di Faraday Cioè Non Scherma In sostanza Il contenuto I circuiti interni Da qualsiasi Segnale Elettromagnetico Per di più Il core La parte più Sensibile È anche Schermata Magneticamente Quindi Non c'è verso Di influenziarlo Dall'esterno Una rete Di questi Dispositivi Era stata Installata Molti anni fa In tutto il mondo Un centinaio Di questi dispositivi Formava Una rete Che faceva parte Di un progetto Il progetto PEAR Scritto PEAR Come PEAR In inglese Detto questo Questa rete Di dispositivi Che mandava I propri dati In continuazione All'università Di Princeton Ha raccolto Dati Interessantissimi Condizioni Particolarmente Importanti Per l'emotività Generale Come L'attentato Delle due torri A New York Il Tsunami Del sudestero Asiatico Situazione In cui Ci sta Con una fortissima Emozione Di molte persone E questi dispositivi L'hanno segnalata Alterando La generazione Casuale Delle proprie Stringhe Di bit Il risultato È stato Che si sapeva Bene Che questi dispositivi Erano in grado Di rispondere A forti Emotività Di molte persone Quando ci siamo Chiesti Se sarebbe Stato possibile Come prima uscita Dimostrare Che era Che erano Sensibili Anche All'emozione Di un singolo Individuo Cosa che Non era stata Dimostrata E abbiamo Incominciato I primi Esperimenti In quel modo Poi Ci siamo Occupati Anche Di un altro Settore Cioè Il settore Del Del Come si può dire Del collegamento Tra Dell'influenza Di un Cervello Su un altro Cervello Così come Avevamo Studiato L'influenza Della mente Sulla materia Avevamo Cominciato A studiare L'influenza Della mente Sulla mente Questo Luciano Pedersoli Poi trovate Intanto Su Le piattaforme Di podcast Quindi Spreaker Spotify Apple Podcast Scrivete Pedersoli Trovate poi Tutte le puntate In cui È stato Ospite Se non sbaglio Quattro E quindi Potete Andare direttamente Voi Ascoltarla Come detto Prima Siccome Sono Racconti Gli esperimenti Veramente Interessanti Anche Per le Dinamiche Che vanno A creare Poi faremo Appunto Un video A parte Su youtube Ancora Condoglianze Ovviamente Alla famiglia Di Luciano Pedersoli Noi adesso Andiamo avanti La musica La revisione Della memoria Di Riccardo Senigaglia Brano Ormai Tanti anni fa Anche se Il 2003 Sembra Sempre Vicino E poi Con noi Michele Giovagnoli Liberate Da I nostri Finiti Vengono Molati Aviliti Militanti Spaventati E stanchi I caduti Pianti Non si contano Ma si ricordano Non si scordano Rimandateci Per carità I nostri Caduti Spogliati Derisi Finiti Militanti Senza Sentimenti Morti Come Tanti L'idea Non era Stata Loro E forse Poi non ci hanno mai creduto tanto Neanche tanto A la nostra versione della storia A questa visione della memoria E forse E forse poi non ci hanno mai creduto tanto Neanche tanto A la versione data dalla storia A la versione della memoria Si aspettano un gesto ai nostri politici I veri mandanti I imprenditori arroganti Prepotenti Raccomandati Mai arrestati Inseguiti dal successo Come cantanti che non fanno testo O come giornalisti corrotti O come film tradotti Ora prendete me Almeno piano per un motivo Che non sia il grande amore finito O tradito da un amico Io rappresento come altri Degli altri Il bell'iente Dell'Occidente Il più fortunato e riconoscente Ma ci sta provando E di sicuro io non ci ho creduto neanche mai un minuto Alla nostra versione della storia A la visione della memoria E di sicuro io non ci ho creduto neanche mai un minuto La versione data dalla storia A la visione della memoria Come be free to me Questa sera Border Nights Un bel ritorno Quello di Michele Giovagnoli Ciao Michele Ciao ragazzi Un saluto a tutti Ciao Fabio Ben trovato Grazie Ben trovato Ben trovato a te Noi siamo molto legati A Michele Perché No con lui facemmo Lo ricordo sempre Perché fu una delle puntate Credo più emozionanti Quando per la prima volta No Ci hai parlato Delle tue esperienze Con gli alberi Con la natura E quel racconto Mi ricordo quel Quel tuo primo racconto No quella volta Prima volta che ti sei trovato al buio Nella foresta Insomma sono narrazioni Che comunque al di là Di poi quello Di quello che è accaduto dopo Del fatto che Un po' ci siamo dovuti Di staccare Anche da queste dimensioni No per affrontare meglio la realtà Però rimane comunque Un momento che ricordiamo Con molto Con molto affetto Allora caro Michele Nei tuoi video Nelle tue dirette Molto Seguite C'è da dire che Hai spesso raccontato Di un qualcuno Che ti aveva quasi annunciato Diverso tempo fa Quello che sarebbe accaduto Sì più di uno Perché Allora La dichiarazione ufficiale La fece Giulietto Chiesa Abbiamo visto tutto il suo video Dove Prendeva una posizione Molto chiara Molto Molto forte Testuali parole Gli Stati Uniti D'America Hanno solo una possibilità Per restare Sulla scena Per essere un protagonista Finanziario Commerciale Economico Quindi Politico Dell'equilibrio mondiale E questa unica possibilità Si chiama Guerra E lui Indicava L'Ucraina Come il territorio Come La zona Dove si sarebbe Sviluppata Tutta questa Tutta questa cosa Stesso scenario Non in maniera Così definita Era già Girava già In certi ambienti Che frequentavo Vent'anni fa Quindi si parlava Di una Di un Contatto Al tempo Si parlava di un contatto Definitivo Ultimo Tra queste Tra queste due forze Che noi Andiamo sempre Ad identificare Come realtà Politiche Come realtà Statali Come organizzazioni Come Nato Come Stati Uniti Come Europa Come Russia Ma bisogna Vedere oltre Cioè Quando Quando noi diciamo Da sempre Che questa è una Una battaglia Spirituale Non significa che Cerchiamo di intravedere Sai I fumi di incenso I campanellini Cioè Spirituale Intende Si intende Che cos'è Che anima Questi movimenti Che cos'è Che c'è dietro Potendo guardare Oltre Potendo penetrare La materia Andare oltre L'immagine Oltre La sostanza Questo è un muro Per capirci Andando oltre Quello che si manifesta Si possono leggere Delle intenzioni La spiritualità Si muove Nelle intenzioni E le intenzioni Sono bipolari Ovvero Ci sono delle intenzioni Benefiche E delle intenzioni Malefiche Ci sono dei protagonisti Che incarnano Queste spinte Una reciprocamente E l'altra E questa cosa Era chiara Da Da sempre Insomma Che si sarebbe Arrivati Un po' alla volta Un po' alla volta Un po' alla volta Dal punto di vista Diciamo così Gli stati Gli schieramenti Fra l'altro Stiamo assistendo Ad un'evoluzione Che è veramente Fantastica Cioè Si è coalizzato Tutto il mondo Ci siamo rimasti Fuori noi Qui Questa parvenza D'Europa Gli Stati Uniti D'America Tutto il resto Si è già coalizzato Ma al di là di questo Oltre questo scenario Evidente Materico Diciamo così Dietro Finalmente Si comincia In questa grande nebbia A individuare Queste che sono Queste due correnti C'è una corrente Che va in una direzione E l'altra Esattamente opposta E contraria Quindi ecco Questa Questa fine Di questi tempi Passami l'espressione Molto biblica È già nei pensieri È già nei sentimenti Di tanti Perché È inevitabile Che prima o poi Queste due forze Entrano In contatto Per far nascere Una risultante Che è quella Di una nuova Di una nuova situazione Ecco Io sapevo di questo Sopra vent'anni fa Quando Nel mio soggiorno Di crescita Andai a vivere In Uruguay Per diversi mesi Ecco lì Frequentai persone Che mi parlavano Già un po' Di questi scenari Al tempo Dici ma Insomma Chissà Cosa sarà Uno si immaginava Chissà che cosa E anche questo È un dato Indicativo Una cosa Interessante Perché Noi spesso Ci aspettiamo Delle cose Dichiarate Delle cose Ben precise Perché siamo stati Comunque abituati Ad una logica Del marketing Ad una comunicazione Diretta All'emoticon Quattro emoticon Per dire tutto Invece Il movimento È sempre velato Questa Questa grande verità Cioè La luce Vedere Dentro a questi A quello che sta succedendo Richiede andare A mettere i piedi Sui famosi Semitoni Sulle famose Sfumature Su quelle famose cose Non dette Su quei piccoli passaggi Lo scenario È complessissimo Fabio Però Nella sua dimensione Archetipale È semplicissima Questo è una È un contatto Tra una verità E la bugia Tra una luce E l'ombra Tra qualcosa Che ha Dominato Finora E qualcosa Che invece vuole Letteralmente Una Ridistribuzione Del dominio Con Alcuni Amici Conoscenti Che sentono Molto Questa situazione Spesso Ci si interroga Su quello Che si dovrebbe Fare anche Nelle nostre vite Anche da un punto Di vista Pratico Cioè c'è chi teme Che magari Non ci sia Più cibo D'energia C'è chi appunto Pensa Di tornare Alla natura Di riacquistare I campi Per coltivare Quindi per avere Delle forme Di sussistenza O per non Soggiacere A quelli Che potrebbero Essere Futuri obblighi Secondo te Cioè sono scenari Che si dovrebbero Prendere in considerazione O Farsi prendere Dal pano Panico Rischia poi Di perdere di vista L'equilibrio Ma l'uno e l'altro L'uno e l'altro Secondo me È una questione intermedia Che permette Di guardare ancora Un po' più in là È la migliore Mi spiego meglio Se anche adesso Tutti noi Volessimo cercare Di costruirci Una realtà Parallela Sarebbe impossibile La realtà Parallela Significa Avere Il proprio Pezzo di terra Avere una Sua autonomia Siamo arrivati Siamo arrivati lunghi Molti sono arrivati lunghi Pensa soltanto Allo scenario Molta gente Che vive in città Vive al Quattordicesimo Piano Di un condominio Adesso Oggi Di Maio Ha detto Anzi Se c'è nell'aria Che non Non vogliono più Comprare il gas Non comprare il gas Significa avere il 40% Di gas in meno Significa che Non solo lo paghi Tantissimo Ma non c'è Letteralmente Non c'è E la gente Che vive in un condominio Non è che può mettere Una stufa legna Perché non è predisposta E non c'è neanche la legna Diciamo che Arriviamo in un momento Nel quale Chi si è Chi ha ascoltato Un po' prima Riesce ad essere Un po' più In vantaggio E quindi Riesce ad avere Già una situazione Un pochettino Più stabile Io ad esempio Vivo in montagna Noi ci siamo Mossi da tempo In questa logica Un pezzo di terra Quest'anno ad esempio Ho messo giù Molte più patate Perché è un ortaggio Che da zuccheri Che possono attraversare Tranquillamente L'inverno Ci siamo già mossi Per una Anche per una Indipendenza Energetica Pannelli Batterie C'è tutto quello Che può essere Nella peggiore Delle ipotesi Può essere Utile Diciamo così Ma io Cerco di guardare Oltre C'è questo Questo momento Che non ci dà La possibilità Non dà la possibilità A tutti Di aggiornarsi Perché ci vuole Del tempo E certe situazioni Sono talmente rigide Che non le vai a muovere Nell'arco di 4-5 mesi I mesi che abbiamo Prima della fine dell'estate Però è sicuramente Una situazione Che ci ha obbligato Tutti A mettere in discussione Un modello di vita Cioè questa Chiamiamola Nuova emergenza Che si sta presentando Ha fatto capire Quasi a tutti Perché c'è ancora qualcuno Che non c'è niente da fare Vabbè Succede sempre Che questo modello di vita Non è proiettabile All'infinito E soprattutto Non può seguire Quel trend Di crescita Esponenziale Che ci è stato proposto Fino a ieri l'altro Oggi Dobbiamo prendere atto Che Se vogliamo Esistere Su questo pianeta Dobbiamo esistere In una maniera Differente Anche dal punto di vista Dell'apprevisionamento Del cibo Delle risorse energetiche Delle relazioni Cioè quello che Quello che questo conflitto Ci sta facendo vedere È che quel modello di mondo Che avevamo Che ci veniva appaventato Proposto Ci obbligavano Anzi A A A A incrementarlo È un modello Che è finito Il modello occidentale Dello sviluppo infinito Del dominio infinito Del Io ce l'ho più grosso Scusate l'espressione È finito È letteralmente finito Quello che sto Notando Ed è una cosa In parallelo Molto 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 Bella E che progressivamente Già da tempo Io per esempio Nel mio piccolo Ho creato una comunità Si chiama È un gruppo chiuso Su Facebook Essere Solari Community di Michele Giovagnoli Ci hanno oltre 40.000 Sono tutte persone Che hanno cominciato Già a organizzarsi L'avevamo Io l'ho proposto due anni fa Perché comunque Lo scenario era abbastanza chiaro Come vi dicevo E si sta Tutti Stanno un po' Cercando qualcosa Di differente Perché di fondo E torniamo a quello Che ti dicevo Inizialmente Spiritualmente Noi sentiamo Che questo tipo di vita Che devi lavorare Per campare Devi dare 10 ore Della tua vita Per Per poter sopravvivere Che devi sempre stare Subordinato A quello Che dice lui Devi stare In un race In un race Di paura costante Nell'imminenza Di qualcosa È finito Quel modello lì La gente Non lo vuole più Quel modello lì Non lo vuole più Abbiamo bisogno Di qualcosa Di nuovo Qualcosa che risponde Maggiormente A quella che è La bellezza Che ci portiamo dentro Tu pensa Tu pensa anche Semplicemente Un po' Quello che abbiamo Vissuto un po' Tutti Non so se L'hai vissuto Anche tu Io ricordo Che il tempo Che potevo Trascorrere Con mio padre Che è la vita Non è Parliamo di bombe Sì ma Queste sono cose Importanti La vita E anche questo Cioè il tempo Che potevo Trascorrere Con mio padre Quando ero piccolo Era Quell'oretta Quando lui Tornava dal lavoro Che era stanco Ed era finito lì E spesso Era anche arrabbiato Non si può Pensare Di continuare a vivere Una vita Questo Cormè questo Collo di bottiglia Che ci obbliga A lasciare Tante cose dietro Se vogliamo passare Di là Nasce proprio Anche da questa Necessità Di avere Una spiritualità Di vivere una vita Spiritualmente più sana Molto più sana E questo tipo Di collaborazione Che stanno nascendo Quindi tagliare Totalmente le filiere Sai che cosa vuol dire Anche in termini Economici E finanziari A livello individuale Per chi produce Verdure Le può vendere Direttamente Ad esempio A chi Acquista A chi Le acquista Tagliare Tutta quella Che è l'intermediazione In tutti i passaggi Fa crescere Fa tornare Non solo A mille vantaggi Perché puoi ordinare Il prodotto Lo puoi customizzare Lo puoi pagare Diversamente Non c'hai L'intermediario Sopra E via dicendo Ma obbliga le persone Ad avere quello Che realmente vogliono Un contatto umano Differente Però tu conosci Il produttore Il vino Lo vado a prendere lì Quello lì È il mio Fornitore ufficiale Di queste risorse E si creano queste Grandi comunità Non è un tornare indietro Alcuni dicono Tornate all'era della pietra No È un fare tesoro Di come Non vogliamo più essere E di come vogliamo essere E quindi si comincia a virare Questo è un processo Ormai inarrestato Ecco Questa è una chiave Anche perché spesso Lo abbiamo visto Anche per cose Molto più piccole Nelle nostre vite Cioè che a un certo punto C'è stato un bivio Obbligato Senza Quell'obbligo Noi magari In quel bivio No Avremmo continuato Invece che Sterzare Avremmo continuato A rimanere Nella strada Che già conoscevamo Ma che appunto Non ci stava portando Da nessuna parte Cioè questo per dire a volte Che se non siamo Non siamo messi Tra virgolette Alle strette Non siamo obbligati Noi tendiamo Comunque No A ripetere Un po' Quello che già Conosciamo Anche se dentro di noi Magari sappiamo Che Non è un percorso Virtuoso Per noi Questo è un po' Un destino Dell'essere umano Secondo te Sì perché ci sono Delle forze Che vanno oltre L'individualità E vanno oltre Quello che è Un'azione consapevole Cioè Se noi Osserviamo Le azioni Dell'essere umano E le osserviamo A livello individuale Come se lui fosse Una realtà totalmente Sconnessa E lì In mezzo a tante altre realtà Allora dice Quello lì Non vuole rischiare Rimane lì E quindi Come dici tu Fino a quando Non è obbligato Non si sveglia Usiamo questa espressione Però L'essere umano Non è isolato Il concetto di Isolato Di individualità È un concetto Limitato E limitante Che nasce da una Da una conoscenza Limitata E limitante Noi viviamo Avvolti E inglobati Da cosmi Che sono sempre Più grandi E inglobiamo Cosmi che sono Sempre più piccoli Quando Arriva una situazione Come questa Ad esempio Che siamo Individualmente Obbligati a crescere Significa che Il nostro contributo La nostra necessità Di crescere Si è manifestata A livello inconscio Ed ha messo in moto Delle forze Che sono più grosse Ed esterne a noi Che non riusciamo a vedere Cioè Quell'azione Che ci obbliga A crescere Chi l'ha creata L'abbiamo creata noi Perché noi siamo Anche quel cosmo Superiore Nel quale si muovono Delle dinamiche Più grosse L'essere umano Non ha questa Consapevolezza Perché non è stato Educato a questo Perché? Perché quando L'ha educato Che è solo L'ha sconnesso Da tutta quella Che è una sua Immensa forza Immensa famiglia Esistenziale D'appartenenza Che non sono soltanto Gli esseri umani Ma il cosmo natura Che è tutto Il firmamento Tutto ciò che Come diciamo Un alchimisti In alto Così in alto Come in basso Così dentro Come fuori Quindi La dinamica Che si scatena È una dinamica Che apparentemente È esterna Quindi dice Quella cosa lì La guerra Ci ha obbligato a Ma quella cosa lì Nasce dal fatto Che dentro di te È scatenata Una necessità Di qualcosa Quindi Questa fine Dei tempi Costituisce Letteralmente Il termine Che le varie Individualità Si sono date Per poter fare Questo grande salto Quindi chi ha corso Un po' prima Corre di meno Adesso Chi ha corso Meno prima Adesso deve Correre di più C'è poi un altro Punto Che spesso È tema Di dibattito Quando Si fa riferimento A loro All'elite Al fatto Che appunto Vogliono Mettere In pratica L'agenda Con determinate Tappe Di cui anche Questa È una Delle tappe Principali Qui però Io a volte Mi sento un po' Combattuto Perché da una parte È vero Che indubbiamente Questi Piani Queste agende Esistono E ne abbiamo Visti gli effetti E tante Situazioni Che magari Venivano Raccontate Dai cosiddetti Come vengono Chiamati Complottisti Questi poi Poi sono diventati Realtà E quindi Da qui il detto Che comunque Ci prende più Il complottista Di chi invece Smentisce Quindi questo è Indubbiamente vero Però Cosa succede Che quando Poi si Abbraccia Questo tipo Di visuale È evidente Che il rischio È quello Di sentirsi Totalmente Succubi Di queste forze Che quindi Ci devono dominare Per forza Che ci devono Schiavizzare Per forza E quindi Il nostro Impatto Alla fine Ne esce Tremendamente Ridimensionato Perché queste Narrative Vedono Questa grande Forza E noi qui Piccolini Che non possiamo Fare niente Come stanno Le cose Secondo te Ma Secondo me I disegni Sono Sono Molto Molto Chiari Sai L'essere umano È stato creato Questo ormai Lo si sa Lo si sa Anche a livello Scientifico Quando si vanno A fare degli studi E delle analisi Genetiche Noi Il nostro DNA Non è totalmente Terrestre Questo lo si sa Ci sono dei filamenti Che ad esempio Non sono presenti Nei primati Quindi Da dove scappiamo fuori Sappiamo ad esempio Che abbiamo Il 98% Di DNA Simile Allo scimpanzé Ma abbiamo Un RNA Che è quella struttura Chiamiamolo così Quella strumentazione Che serve per codificare Il DNA Che è immensamente Più sviluppato E più abile E non ci sono stati Tempi tecnici Evolutivi Naturali Per passare Da quel tipo Di RNA Che ha lo scimpastè Al mondo Non c'è una ragione Scientifica Che giustifichi La presenza Dell'uomo Su questa terra Tutto si può dire Tranne che è Un abitante Di questa terra Lo diceva anche Il mio professor Di anatomia Comparata All'università Io vi insegno Che scendiamo Dalle scimmie Ma non ci pensate Minimamente Mentre ci sono Una marea di prove Che dimostrano Che noi abbiamo Un'unità Delle strutture Non solo genetiche Ma anche comportamentali Che non hanno a che fare Niente con questa terra L'essere umano È stato creato È stato creato Per una finalità Ben precisa È stato creato In maniera molto raffinata Noi abbiamo Delle macchine potentissime Questo è fuori discussione E come faccio un esempio Hanno creato Una Ferrari Ma la fanno Girare Col freno a mano Tirato In modo tale Che lei produca Questo grande attrito E liberi uno stato Liberi una frequenza Molto molto sottile Questa frequenza È la paura Che viviamo Loro tanto Dall'altra parte Sanno creare Soltanto questo Come insegnano Tanti romanzi Da Blade Runner A Frankenstein Insomma C'è un punto Nel quale la creatura Deve emanciparsi Quindi si stacca Dal genitore Fa parte della vita Ogni volta che crei qualcosa Quello qualcosa Prima o poi Deve liberarsi da te E per liberarsi Fa un salto Fa un salto Si stacca Il figlio Che diventa uomo E non è più figlio Rimane legato al padre La madre Ma è libero Ecco Noi stiamo vivendo Un po' Quella situazione lì Quindi sì Loro dall'altra parte Ci conoscono bene E sanno quali sono le leve Però tra di noi Ci sono anche tante persone Che hanno imparato A conoscersi E sanno dove sono le leve Quindi io sento Ad esempio Quando loro vogliono Scatenare Una paura dentro di me Per annullarmi Ormai Mi conosco un po' La mia arte E anche questa La mia arte intesa Come l'arte alchemica Non a caso Gli alchimisti Li hanno sempre bruciati Perché? Perché conoscevano Diciamo così Il libretto di istruzioni Per far funzionare L'essere umano Quindi Venendo all'altra domanda Loro sì Sono bravi Sono molto bravi Bravissimi Loro hanno le loro agende Perché? Perché devono fare un'agenda? Perché? Perché anche loro Vivono in un sistema Dove non possono controllare tutto Non possono controllare Ad esempio Tutto il flusso energetico Che è cadenzato E arriva dal sole Il sole periodicamente Con dei cicli molto grandi E con dei microcicli Manda delle influenze Che vanno a muovere La vita su questo pianeta Cioè Se arriva la primavera Non è perché l'ha deciso Il capo del forum E via dicendo Arriva la primavera Perché c'è una posizione particolare Un rapporto di forza particolare Entrano tot fotoni Con una certa frequenza E quindi La materia diventa una cosa Mentre prima era un'altra Perché sono istinti dinosauri? Perché è cambiato L'indice di Schum Perché ci sono state Tante cose Che vengono tutte da fuori Quindi Loro devono fare un'agenda Perché per poter vivere Qui con noi Loro devono Adattare Tutto questo ambiente A delle cose Che normalmente Ad un ambiente Che normalmente Cambierebbe Quindi loro sanno Loro hanno un tempo Sanno che entro questo tempo Devono chiudere un progetto È per quello che hanno le aziende Perché? Perché sanno che entro quel tempo Le condizioni di base Su questo pianeta Cambiano Perché sono sempre cambiate E cambieranno sempre Allora Se riescono a creare Diciamo così Una struttura Creata proprio A livello vibrazionale Che è quello Che è il nostro stato d'animo E anche fisica Perché non è che si inventano Tutte queste cose Con i 5G Perché vogliono farci Mandare più velocemente La foto All'amorosa Capito? Ci sono delle volontà Molto più alte Se loro entro un certo tempo Riescono a fare questo Allora ci riescono A tenere lì dentro Se loro non fanno in tempo Caro Fabio Vanno a casa Punto e basta Quindi che cosa possiamo fare noi? Ricordarci chi siamo Questo è il grande imperativo Che noi La mia tradizione È 5.000 anni Che lo dice Ricordati chi sei Ricordati come sei fatto Come funzionano i tuoi centri Come funziona il tuo centro mentale Ricordati qual è la matrice Del tuo centro sentimentale Ricordati come sei connesso Al tuo passato Ricordati quali alleanze Puoi fare col cosmo natura Ricordati L'uomo Che si ricorda chi è È incorruttibile Il mio famoso State State fermi Fabio Quante volte l'ho dito Lo dirò Fino alla fine di sto delir State fermi Ricordatevi chi siete Perché un uomo Che è consapevole Di sé Non lo muove in nessun modo Ci hanno cambiato Hanno cambiato I nostri atteggiamenti Fabio In questi due anni Ci hanno costretto Ad andare al lab Ci hanno costretto ad avere paura Ci hanno costretto Non mi sembra Vedi Noi ci siamo Ci stiamo ricordando Chi siamo Quindi loro Nei confronti Di un essere umano Che sa chi è Progressivamente Loro sono letteralmente impotenti Questa è l'unica arma che abbiamo Perché non possiamo Confrontarci con loro Usando la tecnologia L'hanno creata loro Sta tecnologia Noi Come li facciamo guerra Organizzandoci Quei telefonini Andando Che cosa C'è Tutta la struttura mondiale Tecnologica È padroneggiata Da questi esseri Noi possiamo Soltanto portarli Allogoramento La nostra vittoria È rimanere fermi Mentre loro Vedi Ne giocano di tutti i colori Per farti mettere in crisi Per farti perdere Questa fermezza Allora ti possono dominare Allora accetti di fare questo Accetti di fare quell'altro Diversamente Loro non hanno armi Ecco Questo provoca Come sostiene anche Qualche ricercatore Spirituale Provoca In realtà L'obiettivo contrario Perché Più Si verificano Queste dinamiche Più In teoria Anche se a volte Io dico sempre Anche che Non sembra Vedere la massa Però sicuramente Più persone Cominciano a farsi Delle domande Che magari prima Non se ne facevano Cioè quindi Poi l'esito finale Forse sono più persone In grado In futuro Alla prossima Non ci casco Quando Quando diciamo Da tempo Che abbiamo già vinto Questa famosa Questa famosa massa critica Questo nucleo di persone Che in Italia Sono state 6-7 milioni Non si sa Un tanto crescono Un tanto calano Però È una quantità Che da sola Non cambia le cose Però qual è la forza Della massa critica Non è quella Di cambiare le cose Direttamente Ma è di indurre Una reazione Quindi la massa critica Induce una reazione Cioè noi fossimo stati In In 400 No? Quelli che Si erano messi contro A questa realtà A questo Questo racconto Ci fossero messi di traverso Se avrebbero già eliminato Sarebbe finita La storia sarebbe stata chiusa Chiusa Perché Perché è spento il fuoco Invece noi abbiamo tenuto Una quantità di fuoco Talmente grande A sufficiente A sufficientemente grande Per quanto piccola Rispetto ad una totalità Però è una massa piccola Che può soltanto crescere Quindi Il gioco Guardalo alla luce Di questa osservazione Il gioco loro È proprio quello di correre Per cercare Di fare in modo Che questa progressione Non arrivi Dove deve arrivare Ma sono sempre in ritardo Sono loro adesso Che sono in ritardo Fabio Una domanda concreta Reale Schietta Chi ti sembra Che ha fretta In questa situazione Noi o loro? Certo Noi no Se hanno fretta È perché loro Queste cose le sanno E sanno che oramai Famelo dire Loro si giocano Il tutto per tutto A costo anche Di paventare Una distruzione totale Di questa realtà Che è quello che Stanno per certi aspetti Anche cominciando A pensare di fare È il bambino Che sa che ha perso il gioco Allora lo vuole distruggere Il male Dimostra la sua stupidità Anche in questi aspetti Nel non riconoscere Un'etica Nei rapporti Loro Cioè la stupidità Del male Che alberga Dentro questi esseri È tale Da considerare Non hanno struttura sentimentale Quindi è come dire Questo computer Non funziona più Prendo Lo butto via Cioè loro Letteralmente Ci trattano così Funzioniamo? Bene Non funzioniamo? Ci buttano via Quindi è una corsa Contro il tempo Per loro Per noi invece È una grande occasione Per ricordarci Sempre più velocemente Che cosa siamo Perché se siamo diversi Da come ci hanno costruito E siamo diversi Noi Noi sappiamo Che cos'è La padronanza Dell'amore E guarda Fammelo dire Un'altra volta Fabio Questa parola È stata sputtanata Volontariamente Ah l'amore 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 è quella cosa Che ha tenuto Dieci milioni di persone In Italia Per me E le ha fatte rimanere Integre moralmente E che oggi Stanno crescendo E stanno portando avanti Questa cosa È vero che La parola amore Spesso è il contenitore Di tante cose Un po' così Un po' leggere No? È stata abusata Per quanto Mi sconosciuta Ma è una È una frequenza Cioè che cos'è l'amore? Io sto bene Se stai bene anche te Questo è amore ad esempio Per loro questa cosa Non esiste Per loro Loro stanno bene Se stanno bene loro A discapito di chiunque altro Quindi È solo questione di tempo Fabio Però in questo tempo Non possiamo stare A guardare È solo questione di tempo Allora mi metto qua Da una parte No È solo questione di tempo Perché vuol dire Che lo scenario Che la strada È libera Ognuno faccia la sua parte E se ognuno fa la sua parte È solo questione di tempo Perché il video È stato preso E quindi da lì Non si torna più indietro E lo vedi anche Perché si creano Delle forze Nei cosmi superiori Che vuoi o non vuoi Ti obbligano a svegliarti Non ti sei accorto Che sta storia Del Delab E del C18 Più 1 Era una gran panzana Bene Adesso ti chiudono il gas E ti fanno fare Ti fanno stare A 14 gradi Perché c'è il mostro Spassiva Come lo chiamo io Ti svegli E dopo di quello Cosa si inventeranno più Quindi è solo questione di tempo Però abbiamo Il dovere Tutti Tutti Di allenare I nostri occhi A vedere bene Cosa sta succedendo Là fuori E di cominciare A servire La nostra integrità Quindi Se per me Andare al lab È una cosa Inaccettabile Io non ci vado E parallelamente Cerco di dare forza A quelli come me Che non vanno al lab Ed è quello Che sta succedendo E' quello che sta succedendo Sono nate Tante comunità Di sostegno etico Che non ci si riesce A immaginare Come È un po' Una sorta di rinascimento Nel rinascimento Ci fu un'operazione alchemica Fatta da Marsiglio Ficino Lorenzo il Magnifico Che ha scritto la storia Con l'ausilio Di Del grande pittore Che ha dipinto Quel famoso quadro Che è la nascita Della vena E la primavera Tra l'altro Molticello Designer del tempo E lì in pochissimo tempo Cambiò il mondo Ci fu un'impennata Perché ci fu proprio Un innesto Di Di conoscenza Tecnologica Altissima Superiore Che viene da altre tradizioni Che ha fatto cambiare il mondo Qui sta succedendo La stessa cosa Oggi Questa condizione Sta obbligando Tutti Tutti Ad un grande salto evolutivo Tutti Tutti Anche chi era Totalmente rintronato Qualcuno no C'è una buona parte Che non Non è pronta A questa cosa Ma gli altri Vai a Lo vedi anche Tra la gente Che ti sta vicino Chi ha avuto Il click In due anni È irriconoscibile Anch'io Fabio Guardo la foto Che hai messo Di due anni fa Che avevo tutta La barba nera Quasi E adesso La qua è tutta bianca Vedi sono cambiato Tantissimo Anch'io Eh sì Quello anch'io Purtroppo Ai lati C'è del bianco Che è così Infastidisce un po' Però facciamo finta Di nulla Senti Ma Queste Elite No Tu dicevi prima No Loro non hanno sentimento Non sentono Sai che c'è la vecchia Storia ma Hanno o no Quella che noi Chiamiamo Anima E se secondo te Si tratta Almeno I personaggi Che incarnano Su questa terra Questa elite Appunto se Sono personaggi Terreni O come sostiene Qualcuno Magari Abbiano anche Altre origini Ah io Non mi sono mai Nascosto Su quello che Che so E che sento E ti do Ti do la mia Risposta Papale Papale Gran parte Dei protagonisti Che noi vediamo Sono esseri umani Che hanno scelto Di Prendere ordini Da chi di umano Non è Fuori Non sono esseri umani Nella totale Certezza Non sono esseri umani Hanno una loro tradizione Hanno una loro storia Anche tra il stile Di chi Sta cercando Di fare del bene All'umanità Che ha bisogno Di evolvere Ci sono realtà Che non sono umane Molte Le hai incontrate Anche tu Senza Neanche Saperlo Hanno un'anima Che cosa intendiamo Per anima Noi per anima Intendiamo Una sorta di Immortalità Cioè un qualcosa Che è Parallelo Che scorre Parallelo A questa esistenza Che si arricchisce Con questa esistenza Quindi tutto ciò Che io faccio Va a nutrire la mia anima Come ne parlava molto bene Hillman Diceva fare anima Noi facciamo anima La nostra esperienza Si permette di fare anima E questa anima Ci dà la possibilità Di uscire Da quella Che è una linea Del tempo E quindi Qua inizia E qua finisce E andare in trasversale L'anima Essendo una componente Esterna A questa dimensione A questa tridimensionalità È un qualcosa Che ci permette Di superare Ciò che finisce Sono concetti Molto complessi E sicuramente Noi tutti Sentiamo Sentiamo Quando si parla di anima Riusciamo a sentire qualcosa Secondo me Siamo ad un livello Tranne alcuni Che non siamo ancora In grado Di comprendere bene Che cos'è un'anima E quindi poter dire Se loro ce l'hanno O no Io personalmente Ritengo che E quel tipo di struttura Che abbiamo noi Loro non ce l'abbiano Non ce l'hanno Perché Di certo Non hanno Una struttura sentimentale Sviluppata Come quella Che abbiamo noi Steiner Ne parlò molto bene Quando parlò Di come è strutturato Il piano del cuore Il chakra del cuore Il chakra del cuore Riprendendo un termine orientale Diciamo così Ma quella strumentazione Che fisicamente Si manifesta Con un cuore Con un cuore Che pulsa al sangue Ma che a livello sottile Ha dentro Quella volontà Quella potenza Di poter Connettere Il cuore Si permette Di connettersi Ci pompa al sangue Ci va a provare Delle emozioni Che sono la conseguenza Del fatto Che riusciamo a connetterci Io mi connetto a te Ti voglio bene E il mio cuore Prova qualcosa Ok Ecco Questa strumentazione Permette di bucare La griglia Spazio-temporale Ti faccio un esempio Una madre Riesce a sentire Come sta il figlio Dall'altra parte Del pianeta Senza avere informazioni Diciamo così Digitali Chi è qua Che suona Porca miseria Aspetta Fabio E' il tuo mio Penso sia il tuo Non ho Chat aperte Non so chi sia Tra l'altro Ho anche chiuso Tutte le Vabbè Vai Tranquillo Tranquillo Non so cosa sia Vabbè Svetterà Speriamo che lo faccia La svelta Ecco Era una chiamata Su Messenger Che era rimasto aperto Ah ok Guardate Tranquillo È il bello Della diretta Vai pure Non poteva andare peggio Entrava qualcuno Anche se qua Sono al terzo piano Sulla torretta Quindi di solito Qua non arrivano Anche se qualcuno Dentro il caso L'ho trovato Qualche Qualche Persona Che voleva Un autogono Sul libro Lasciate cose Cosa belle Ecco Per potere Gestire Una Un accesso Oltre la terza dimensione È richiesto Un piano del cuore Fatto in un certo modo Loro Questo piano del cuore Non ce l'hanno E lo vediamo Dal fatto Che loro Non riescono A provare Certi sentimenti Loro Non provano Certi sentimenti Non ne hanno La facoltà Perché non ne hanno La facoltà Una cosa molto semplice Perché questo pianeta Dà in dotazione A chi si incarna qua La materia Che poi si vitalizza qua Una struttura particolare I terrestri Tutti quelli che sono terrestri Hanno un cuore Che prova emozioni fortissime Provano emozioni Gli esseri umani Provano emozioni Che hanno Un buon 66% Di DNA terrestre Provano le emozioni I cani I gatti È indiscutibile Gli animali selvatici Provano le emozioni Le piante Le piante Se tu ti comporti In un certo modo Sviluppano un'emozione Verso di te Quindi cambiano Le loro comportamenti Non hanno la corteccia Come abbiamo noi Che dice Riescono E quella l'area Dove nasce Tutta un po' La dinamica emozionale Ma hanno qualcosa Che noi non riusciamo Ancora a conoscere Che però Si traduce In dei comportamenti In degli attesamenti Tipici di quelle Che sono delle emozioni E lo si vede Ci sono degli studi Sulla biofilia Infiniti Bellissimi Gli ha fatti Mancuso Gli ha fatti Dace C'è un'antologia Nutritissima Su questo La struttura animica È tipicamente terrestre Cioè Questo pianeta Dà questa dote Dà questa dote Quindi noi l'abbiamo E proprio per questo Noi riusciamo A provare delle emozioni E proprio per questo Noi abbiamo la possibilità Di camminare Di andare Ad accumulare La grande riserva Animica Loro Queste emozioni Fabio Non le provano Non le provano Non le provano Non ne hanno Non è nella loro facoltà Tant'è vero Sai che cosa mi hanno insegnato In Uruguay Un personaggio Che la sapeva lunga Mi diceva Michele ricordati Il nostro amore È il loro punto di forza Perché siccome Noi ci emozioniamo Noi ci affestioniamo Noi riusciamo a creare Dei legami Tra le persone Tra le cose Tra i luoghi Tra le tradizioni Noi ci affestioniamo Anche a qualcosa Di immateriale Dici c'è una festa Che si fa tutti gli anni Ci siamo affezionati A quella festa No Ecco questa cosa È il loro punto di forza Perché loro sanno fare Leva su questa Loro fanno leva Su questa cosa Ti faccio un esempio Hai un figlio Una domanda Non è te Hai un figlio E la persona dice Sì ho un figlio Vuoi vedere che io Ti costringo ad andare a lavorare Vuoi vedere che ti costringo Ad andare alla vaccinale Ci vai Ci vai Perché se non ci vai Io ti tolgo il lavoro E tu soffri E fai soffrire il tuo figlio Allora in virtù Di quella tua capacità Di provare Emozione e amore Tu cederai Al mio ricatto Il nostro amore E il loro punto di forza Fino a quando Noi gli diamo La possibilità Di farci Accettare Una gerarchia Uno dei grandi punti Che io Come alchimista Ho dovuto affrontare È quello Di cercare Di andare oltre la vita Di non affezionarmi Alla vita Io ora Non faccio neanche figlio Anche per questo Per avere questa sorta Di incorruttibilità Ma questa vita È un capitolo Di un'esistenza La vita Senza di me Non funziona Quindi questa Subditanza Che l'essere umano Vive sempre Nei confronti Della vita Ah però Perché la vita Lo devo fare Perché la vita Io sono vivo Oltre la vita Cagliostro diceva Avete imprigionato Grande alchimista Avete imprigionato Una carcassa Io sono già oltre Giordano Bruno Avete più paura voi A pronunciare questa sentenza Di morte Che io a riceverla Per mettersi già Consapevolmente In questo poter Tornare E muoversi Tra le varie vite Di un'esistenza Quindi la vita È una cosa Che non ha un valore supremo Non dobbiamo avere paura Di morire Questa è la questione Che è una cosa enorme Messie della Rochefoucauld Diceva Nelle sue massime Chi non ha paura di morire O mente O non sa Quello che dice E non posso dargli torto Da essere umano Però mi rendo anche conto Che man mano Io sono attaccato E ho paura Ma man mano Che perdo la paura Di essere Di perdere la vita Quindi man mano Io mi sento più Svincolato In questa esistenza Man mano Io sono molto più Incorruttibile Man mano Io sento maggiormente La vita E man mano Mi colloco In una posizione Che è naturale Normale L'animale Ha paura di morire Ma in termini Di sopravvivenza Noi abbiamo paura Perché sappiamo Che dobbiamo morire E non viviamo Neanche la vita Che ci abbiamo davanti Perché Ah perché Dove può succedere questo Sai cosa dico Alle persone Quando si crea Questo dubbio Vediamo Che cosa succede Una volta Vascorossi ha detto Ho passato una vita A preoccuparmi Di cose Che non sono Mai Successe Punto Eh sì Lo diceva anche Quella Nel finale Del film The Big Gauna Che poi In Italia In italiano L'ha rifatto Se non sbaglio Linus Tanti anni fa Che si chiamava Accetta il consiglio Per questa volta E a un certo punto Diceva proprio Che No Che Le cose di cui Più ti preoccupi No Probabilmente Non si verificheranno mai E i veri problemi Saranno quelle cose A cui non avevi mai Mai pensato Senti L'alchimia Che Intanto cosa si intende Per l'alchimia Perché Noi abbiamo ospitato Ma in questi Undici anni Anche alcuni Che appunto Si professano Alchimisti Tu come la intendi L'alchimia E che aiuto Può darci Allora L'alchimia È un Viaggio interiore Di conoscenza Della propria Natura È un viaggio Partendo Da un'interiorità Per conoscere Quello che è Un'esteriorità L'obiettivo Dell'alchimia È di Superare se stessi Autotrascendere Quindi Uscire Da quella logica Che uno è Qui dentro Uno è questa cosa qua Vive come si vive E poi A un certo punto Si muore L'alchimista Ha la consapevolezza Di essere vivo Oltre ciò Che si manifesta E quindi Adotta tutta una serie Di atteggiamenti Fa un lavoro Un'opera Su di sé L'alchimia È un'opera Costante Che quando Inizi Ormai È una ragione Di vita L'alchimia È una ragione Di vita Io vivo Per trascendere Non vivo Per fare delle cose Qua Perché queste Le senti già Come passate Come vecchie Le hai già fatte Non ti interessano Più L'alchimia È una via Di fuga Da questa Da questa Pesantezza Tridimensionale Ci sono tante Tradizioni O meglio Tanti modi Di fare alchimia L'alchimia È soggettiva Dipende dalla persona Ogni persona È fatta In un certo modo Quindi Si presta di più A certe forme Di elaborazioni Del composto Io ho lavorato Tanto Ad esempio Con le piante E fare un'alchimia E fare un'alchimia Personale Con le piante Con il mondo Interagendo Con il cosmo Natura Quella che io Chiamo alchimia Selvatica C'è chi lavora Con i metalli C'è chi fa Alchimia Con la sessualità C'è chi fa Alchimia Con la musica Con l'arte Ci sono delle Diciamo così Delle leggi Che noi seguiamo Dei punti Di riferimento Che sono Quei punti Di riferimento Che ci vengono Dati Da ciò Che è manifesto Quindi sappiamo Ad esempio Che il cosmo Natura Si muove in base Quattro Abbiamo quattro stagioni Abbiamo quattro forze Abbiamo quattro cardini Abbiamo E tante tante altre Adesso non stiamo A fare un'alchimia Come può aiutarci L'alchimia adesso Quello che la gente Sta facendo adesso È un po' alla volta Una sorta di iniziazione All'alchimia Perché La chiamiamo alchimia Perché iniziata La facevano in pochi Come è nata l'alchimia Da un frutto di notizie L'alchimia nasce Perché i creatori Dell'essere umano Tra i creatori Qualcuno Ha voluto prendere Il libretto Di istruzioni E l'ha voluto Raccontare all'uomo L'uomo ti racconto Come sei stato costruito E quindi Sapendo chi sei Puoi uscire Dalla prigione Nella quale I tuoi creatori Ti hanno infilato Sembra un film di fantascienza Ma oggi Sono i film di fantascienza Che aprono Lo scenario No? Lo scenario Della realtà E vengono a prendere Spunto qua Perché Quello che sta succedendo È molto più avanti Oramai Della fantascienza Quindi Oggi Quello che stiamo vivendo È un po' Un'iniziazione L'alchimia C'è la gente Si sta rendendo conto Che la vita Non è soltanto Quello che ci hanno detto Ed è obbligata A conoscersi Ad esplorarsi A me A me L'alchimia L'alchimia Mi ha chiamato La vita Perché Soprattutto adesso Perché Perché questo tempo Lo riesco a vivere Letteralmente Da protagonista Cioè Mi sento Totalmente Inserito Una persona Una persona Una persona che Si conosce un po' E riesce a gestire I suoi quattro centri Mentale Sentimentale Sessuale Creativo E fisico Che sono ben Illustrati Nel vitruviano Questa figura Con quattro centri La fronte aperta Il costato Bello in mostra Il centro sessuale libero Quattro braccia Quattro gambe Non perché È un centro fisico Iper sviluppato Ma perché Due braccia Toccano il quadrato Cioè L'essere umano È Terreno È terrestre Però Toccano anche Il cerchio Cioè Quindi L'essere umano Può tendere Ad una Sua dimensione divina Cioè Ad una massima Espansione Di quello che è La sua Il suo essi Il suo sentirsi Ok Questa è la figura Del vitruviano Che si contrappone Fortemente Ad esempio All'immagine Classica Del crocitisso Che è stata Creata Nel nono secolo Della chiesa Dove i quattro centri Sono totalmente Quattro bannati Spine Sulla fronte Costato Bucato Centro sessuale Bannato Piedi e braccia Inchiadati Perché Quello è il punto di riferimento Che dovevamo prendere Così Sta tranquillo Che non ti liberi più Ti aiuta a non avere paura Adesso Ti aiuta a vivere Con entusiasmo Posso dare un piccolo consiglio Un piccolo invito Non consiglio Troppo presunturo Un piccolo invito Non è mai tardi Per iniziare Un processo di alchimia Per iniziare Un viaggio alchemico Se uno è incursito Da questa cosa Lo ha già iniziato Perché il desiderio È la creazione Nel parallelo Di ciò che poi Si manifesta Quindi tu desideri Una cosa E quella cosa Si manifesta Nelle scritture Si può scritto Dio creò Con intenzione Potete iniziare Facendo una cosa Semplicissima Semplicemente Dedicando un po' Di tempo Per stare un po' Da soli in natura Fatevi due passi In un boschetto Senza aperto Vi prendete un sentire Restate in quel silenzio Se dentro di voi C'è già La necessità Cioè se questa vita Non vi basta Da quel silenzio Da quel tipo Di situazione lì Che è una situazione Armonica pulita Non a caso Chi gestisce l'umanità Ha sempre allontanato L'uomo dal cosmo natura Perché quando sei in natura Sei più forte Ecco lì possono Cominciare a scaturire Delle cose A scattare delle cose Ad avere delle Delle intuizioni Cioè si rompe La campana La bolla Dentro al quale Gli esseri umani Vengono tenuti A sopravvivere No a vivere A sopravvivere Poi se invece Vi interessa Fare dei corsi D'alchimia Ce ne sono tantissimi Vi potete rivolgere Ci sono tante realtà Io ho seguito Un pochettino I testi di Giorgio San Giorgio Faccio dei corsi Anch'io Ci sono tante realtà Che possono proporvi Già con un breve Percorso Il domesticamento Di quelli che sono I nostri centri Che adesso magari Ci fanno anche sbarrellare Io Fabio Sono due anni Due anni Che tutte le dirette Che faccio sul mio canale Facebook Faccio una lezione Di alchimia Ogni volta Che faccio una puntata Ero fatto per un anno Un po' Tutti i giorni Gratuitamente Quindi ogni volta Ci metto sempre dentro Un esercizio O un'attenzione O una piccola pratica O un'osservazione E le persone Che hanno fatto Questo percorso Le vedi Che gran parte Di quelle Sono poi Confluite In questa comunità Essere solare E adesso La vivono meglio Ci sono persone Che sono rimaste Senza lavoro E hanno costruito Partendo dalla loro dote Che è un'otrazione alchemica Una fonte di reddito Che gli dà Come prima Ma gli porta via Un terzo del tempo Quella è alchimia Pure alchimia Infine ti chiedo Per chiudere E anche per guardare Tra virgolette In casa nostra In casa anche Di chi In questi due anni Ha contribuito Anche a far Divulgare Questo senso Comune Questo risveglio Di coscienza A volte Purtroppo Perché siamo Tutti esseri umani Prevale La parte Egocentrica Che poi rischia E diciamo Scatta anche Il sospetto Incrociato Scatta Comunque Il guardare L'altro Perché In modo così Sempre A volte Negativo Quindi Diciamo che A volte Bisognerebbe Anche cooperare Maggiormente Mettiamola così Prima Magari Di Andare Magari A attaccare Pubblicamente Qualcun altro Che magari In teoria Dovrebbe Essere Dalla tua Parte Ma Fabio È una cosa inevitabile Adesso Fa parte Fa parte Di tutte Quelle Scremature Quelle Limature Che siamo Costretti A fare Siamo Esseri umani Tutti Chi più e chi meno Chi in maniera evidente O no Siamo sempre Un po' Portati Vivendo una solitudine A cercare Di proteggerla È famoso Tirare L'acqua Al proprio Mulino Ritengo Che sia Inevitabile Con il Progredire Della situazione Vedrai che Passerà A tutti noi Mi ci metto In mezzo Anch'io Per la mia Struttura Egoica Perché L'abbiamo Sono un Essere umano Quindi C'è la Volontà Di Come dire Mettiamola in positivo Col tempo Andando avanti Progredendo In maniera esponenziale Questa situazione Ci obbligherà A mettere da parte Tutte queste Queste Cazzate Che poi si traducono In questo E a E a operare Per un fronte Comune Questa è una situazione Che Noi attraversiamo E arriviamo Dall'altra parte Se ci arriviamo insieme Se no Non ci arriviamo Ultimamente Ad esempio Ho fatto degli incontri In piazza Organizzati Anche da realtà Dove c'erano già Dei cartelli politici Dei partiti In abbozzo E Le ultime due Che ho fatto C'era questo tipo Di situazione Infatti In molti Mi hanno detto Cosa vai a fare lì Vado lì Perché sia chiaro Che Adesso si può Uscire In mille modi Ed è giusto Perché abbiamo Vissuto un tempo Che esaltava Le individualità Quindi ognuno Ha dovuto capire bene Chi è Questa forza Ha permesso di capire Chi siamo noi E chi siamo loro Dall'altra parte E ha anche Diviso i vari colori Del nostro grande popolo Ma tutti questi colori Tutte queste bandiere Il mio monito È e rimane quello Devono poi confluire In una bandiera unica Anche per estremo A livello politico Perché se servirà E servirà Avere Diciamo così Una presenza Una presenza Tra poco Tra poco si vota Anche Al prossimo anno Si vota Se non prima Se non salta Tutto prima Non possiamo sempre pensare Fabio Di andare a comportarci Di riflesso A come si comportano Quelli là Se la politica Rimane uno strumento Di questa realtà È giusto Che tutta questa voce Questa Questa biodiversità Che noi rappresentiamo Che noi siamo Venga rappresentata L'idea è che Che si vada Come siamo adesso Ad un confronto Uso questo termine Non voglio entrare Ad essere in merito Ma un confronto elettorale Con dieci partiti Che rappresentano Un po' questo momento Dove cazzo andiamo? Dove vai? Dove vai? Non arrivi da nessuna parte Ma sarebbe Il fallimento dell'opera Perché questa Tutta questa grande operazione Che stiamo vivendo Dove ci siamo dentro Ha come grande obiettivo Proprio quello Di unificare Di andare a creare Nell'individualità Una collettività consapevole Quindi se arriviamo Divisi L'havo dire Che l'operazione Non è andata a buon fine E infatti Non funzionerà Ok? Quindi sì Assolutamente Ognuno di noi È chiamato sempre A guardare Quello che è L'obiettivo ultimo Di tutto quello Che stiamo vivendo È successo anche a me Poi avrete Il modo di vederlo In uno Anche pochi giorni fa Ma cercare di guardare Oltre Andiamo oltre Siamo tutti esseri umani Ognuno di noi Fa del bene A modo proprio Ma Viviamo Queste Tra virgolette Queste tentazioni Che nascono Dalla paura Che quello che hai Non ti basta Ok? Quindi Unità Unione Solidarietà E collaborazione Queste sono le parole Chiaro Caro Michele Io ti ringrazio molto Di esserci ancora Venuto a trovare E continueremo A seguire Anche dalla tua pagina Facebook E le tue dirette Sempre motivo Di accrescimento E a presto Un caro abbraccio Grazie Grazie Fabio Saluto Tutti i tuoi Tutta la tua Grande famiglia E ti ringrazio Di cuore Per l'enorme Lavoro Opera Che avete fatto In tutto questo tempo E che continuate a fare Siete una colonna portante Di questo grande Nuovo edificio Di coscienza E consapevolezza Che è nato Qui in Italia Io me ne sarò Eternamente grato Non vi ringrazierò Mai abbastanza Grazie Un abbraccio a tutti voi A presto Ciao Grazie 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 La musica La musica ci salverà Le affascinanti sonorità 432 Hz Abbiamo visto Grollo E Rino Capitanata Che stiamo per andare a salutare Ma prima Intanto vado a salutare Innanzitutto Paolo Franceschetti Ciao Paolo Ciao Fabio E ciao a tutti E poi Sono molto contento Perché questo incontro E grazie A un altro incontro Che così Il cammino della vita Ci ha portato A fare Vado a salutare Roberto Romiti Ciao Roberto Benvenuto Aspetta che non ti Adesso ti sentiamo Vai Ripeti pure Perché non ti abbiamo sentito Ciao Ciao a tutti Ciao Fabio E' stato Direttore delle edizioni L'età della quale Ed editore Per circa 20 anni Di un nome storico La BIS Edizioni Oggi ricercatore Dei mondi visibili E invisibili E chiaramente Molto Interessato Anche Al tema Proprio della musica Tanto che E' uscito Questo suo libro Che si chiama La musica Ci salverà Eccolo qua Come si cancella Il paura Virus Come si sconfigge Il nemico Numero uno Dell'uomo Che è La paura E poi Abbiamo visto La musica Ci salverà E abbiamo qui Davvero Un grandissimo nome Della musica Terapeutica Della musica 432 Hertz Conosciutissimo Grazie di essere qua Vino Capitanata Benvenuto Il maestro Salve a tutti Salve a tutti Grazie Grazie per l'invito Grazie Grazie davvero Allora Cominciamo Paolo Cosa ci dici Del tuo incontro Con Roberto Romiti Allora Roberto Romiti Diciamo Che è uno Di quei personaggi Assurdi Che mi capitano Delle volte Di incontrare Per caso In questo Viaggio Che stiamo facendo Con Border Knights Con Tutto il lavoro Di questi anni Perché Qualche tempo fa Mi ha scritto Un messaggio Un SMS Non mi ricordo Adesso il contenuto Insomma Poi Era su Roll Ah ecco Era su Roll Ma io mi pareva Di ricordare Che era la telefonata Mi scrive una cosa Su Roll E io In quel momento Però stavo leggendo Un libro su Roll Allora ho detto Ok questo È uno Che probabilmente Diciamo È guidato dall'alto È una di quelle Coincidenze Di cui abbiamo parlato Tante volte Fabio E mi lascio guidare Talvolta Da queste coincidenze Capisco che è un personaggio Particolare Quindi Ci sentiamo per telefono Poi da quel momento in poi C'è questo Buffo rapporto Per cui lui mi fa Un po' da grillo parlante Perché ogni tanto Mi manda Degli sms Mi commenta Delle cose Mi riprende Con molta dolcezza Su alcune cose Su cui magari Sono incerto Oppure sbaglio qualcosa E poi La conversazione Più buffa Ieri Che commentava Uno dei tanti Personaggi Un po' da circo Che abbiamo invitato In questi anni No? Senza dire chi C'è un personaggio Starordinario In realtà Però Lui che c'ha Un certo intuito Dice Ma questa persona È un po' strana Però Come essere umano Allora io gli ho detto Beh sì E dice Ma certo Tutti i personaggi strani Gli ho detto Beh ma guarda Ma tu non è che sei da meno Cioè pure tu Sei in soggetto Cioè rientri nella categoria Dei personaggi da circo Che circondano Border Knights E vabbè Quindi c'è un po' Questo scherzo Tra di noi Però siccome È una persona Che è molto più anziana Di me Come età Anagrafica C'ha uno spirito Però molto giovanile Ma c'ha una conoscenza Straordinaria Ha fatto un percorso Spirituale straordinario Quindi è una di quelle Conoscenze arricchenti Di questo cammino Di questi anni Che mi ha dato Spunti di riflessione Sicuramente Mi aiuterà in futuro E quindi Sono contento Oggi che siamo qui Poi sono contento Anche Capitanata Anche se Non ci eravamo mai sentiti Però in realtà Ci siamo sentiti Eravamo in contatto Senza che lui lo sapesse Perché io ero in contatto Con lui Quando sentivo Le sue musiche Sentivo in realtà Qualche volta Mi capita anche adesso Però c'era un periodo Che proprio Strassato circa 15 anni fa Che invadevano La mia vita Anche in macchina Sempre Invadevano in senso buono Le usavamo All'Abrama Kumaris A Gubbio Come musiche Da rilassamento E l'ho conosciuto lì Diciamo Le sue musiche Allora Roberto A te la parola Per raccontarci Un po' Di te Di quello Che è il tuo percorso Anche attuale E anche Di questo libro Ok Allora dopo la presentazione De Franceschetti Farò di tutto Per non essere più Reinvitato Perché Meglio di così In cosa posso Sperare Allora Uno Eh ma è vero Anni fa Uno che penso Sia un amico Mi ha definito Il pubblicitario Esoterico Pubblicitario Pubblicitario È una parola Che ha molte sfaccettature Un libro Che ha avuto Un successo mondiale Di un francese Jacques Seguela Si intitolava Il libro Addizione Lupetti Non dite a mia madre Che faccio Il pubblicitario Lei crede Che faccia Il pianista In un casino Questo è il titolo Del libro E quindi Come pubblicitario Io sono Definito Copywriter Copywriter È lo scrittore Di testi Non so disegnare So scrivere E creare Mondi Di prodotti Quindi nella mia vita C'è stato Perché si risalgono Si risala qualche Annetto fa Soprattutto il periodo Dei Caroselli Per vent'anni Ho lavorato Col genio Della pubblicità Romano Bertola E con lui Abbiamo fatto Qualcuno lo ricorderà Ancora Miguel son me Miguel son sempre me È il dindondero Poi abbiamo fatto Gigante Pensaci tu Gio Condor Maria Rosa Bertolini Mira Mira Olandesina Mira Lanza Ti è vicina Insomma Quando la pubblicità Si capiva Almeno qual era il prodotto Non come oggi Sono ancora Molto attuale Molto attuale Perché Nel Lontano 72 Ho creato Per la Ferrero Il nome Estatè Dove mi hanno detto Degli amici Ho soltanto spostato Un accento Cosa vuoi E quando Sono usciti I primi Caroselli Il cartone animato Questo Miguel son me Che ha avuto Un successo Enorme Il mio padre Che era capo Di un ufficio tecnico All'Olivetti Quindi lettera 22 Lettera 32 Mi ha detto Ma ti pagano per questo Ed è il dramma Della mia vita Come pubblicitario Come cosiddetto esoterico Ho cominciato Con Il primo libro È stato L'iniziazione di Steiner Dopodiché Di cui ho capito poco Ma ho capito Che dietro c'era la sostanza Non c'era uno Che voleva fare Il successo Editoriale Dopodiché Sono passato Dalla dottrina segreta A Iside Svelata Di Madame Blavatsky Praticamente Tutti i libri Di Steiner Jung Assagioli Taoismo Di Alan Watts Eccetera 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 Voi che Avendo vissuto Trent'anni a Torino Non abbia anche passato Una serata Con Roll Portato lì Da una giornalista Nota Che è Giuditta Dembeck Errol Mi ha fatto A distanza I vari Fenomeni Con le carte Laddove C'è un problemino Io sono andato A verificarlo Quindi ho verificato La reti estesia Ho verificato La scrittura Automatica Qualunque cosa Il mio interesse È stato Di verificare Cosa c'è di vero Quindi Tutte le varie Filosofie orientali Le varie religioni Fino ai Bahai E questa è un po' La mia cosiddetta Parte Esoterica Circa Quattro anni fa Mi sono Come pubblicitario Esoterico Mi sono posto Un problema Essendo In pensione Molto tempo Per aggiornarmi Ah Ho avuto anche Tempo Di fare il bienio Al politecnico Di Torino E di laurearmi Successivamente In fisica Con specializzazione In elettronica Non guasta Quindi Circa Quattro anni fa Mi sono posto Il problema Vedendo Tutti i vari Gruppi Che sorgevano Dove Ognuno Era fatto Da persone Seri Oneste Che cercavano Di uscire Dalla cappa In cui Siamo tutti Raccolti Mi sono detto Possiamo trovare Un messaggio Unico Che li unifichi Perché ognuno Porta avanti La propria frequenza Ma staccata Da quella Degli altri In più Vede Gli altri I nemici Quelli Della parte Oscura Come nemici Mentre il gioco Prevede Di Far parte Dello stesso Meccanismo La fisica Quantistica Mi ha dato Una grossa mano Oggi Perché Stabilisci Che tutto è uno E che L'osservatore È l'osservato Perché non c'è Il nemico Se io considero L'altro nemico Gli do forza E mi frego Da solo Io Ho scelto Almeno Finora Una cosiddetta Strada Della luce I maestri I maestri Ascesi Tutta quella Cosa lì Ma non considero L'altro Un nemico Lo voglio Battere E penso Di Riuscirci Come squadra Perché In una Camera Buia La luce Di un fiammifero Si vede Illumina Non ho mai visto Una camera Di luce Dove c'è Un fiammifero Di buio Per cui Tengo Per quella squadra Lì A me Sogli abbia scelto Io Il mio tipo Di vita Quattro anni fa Ho detto Ci può essere Un messaggio Unificante Quale può essere La musica La musica È il messaggio Che ci unifica Perché Deve essere Però una musica Particolare E poi Rino spiegherà Perché A 432 Hertz Ma la musica Può essere Questo messaggio Quindi è nato Il progetto Che si chiama In realtà Music Sound World Perché deve avere Un nome internazionale Perché deve fare Massa critica Ma In italiano Abbiamo semplificato Con La musica Ci salverà Ora Due anni Due anni Passa fa È arrivato Il covid Al che Ho avuto La necessità Di Trovare Un meccanismo Quindi Un libro Che raccogliesse 50 anni Delle mie esperienze Dando la soluzione Perché ho capito subito La forza del covid Ho creato il nome Infatti Coronadeus Perché finalmente C'è un dio Coronadeus Che ha unificato Tutte le menti Se sei bravo Ti premi e vivi Se sei cattivo Ti punisce E ti segna Come si combatte Il coronadeus Si combatta Secondo me Con la musica Il libro Che è Come si cancella Il paura virus Perché noi Abbiamo Un problema E non so Fabio Se riesce a mettere L'immagine Del pentavirus Eccola qua Questi sono I nostri nemici Il pentavirus È composto da Religio virus Media virus Publi virus Giustizia virus Politik virus Queste Si sintetizzano Con La paura Paura virus La paura Tutti parlano di paura Ma Nessuno poi ci dice Come cancellarla Io penso di Aver dato Degli spunti interessanti Nel mio libro Come si cancella La paura virus Spiego in breve Ma non c'è tanto bisogno Religio virus Era stato sintetizzato Come La religione Come l'oppio Dei popoli Si mettessero D'accordo Media virus Stiamo vedendo E voi siete Come Border Knights All'avanguardia Sullo spiegare Come agiscono E sanno Occultare bene I media Giustizia virus La legge È quella cosa Che per gli amici Si aggiorna Per i nemici Si martella Politic virus Dobbiamo ancora Dire qualcosa Abbiamo bisogno Ancora di qualcosa Quando i ministri Degli esteri Hanno al massimo La maturità E Il ministro Della salute Ha una laurea In politica Bene O rimane Publi virus Quello che conosco meglio Come pubblicitario E anche qui Ognuno Ha gli esempi Di come anche La pubblicità Ci fa deviare Puoi togliere Questa immagine Fatta Non sono un grafico E si vede Quindi È nata La necessità Di Mettere In pratica Questo manuale Io ho scritto Tra libri E ebook Una trentina Non mi definisco Per uno scrittore Ma uno scrivente Scrivo dei manuali Per mettere in moto Le lavatrici Non penso Di aver fatto Lavori Tipo quelli Di uno scrittore Di una presentazione Ha detto Che per una parola Ha impiegato Una settimana E io In una settimana Scrivo il libro E poi ho avuto La fortuna Di pubblicarlo O con la mia Casa editrice O con altre Che cosa In sintesi Dice Il libro Come si Cancella Il paura virus Cancella Le paure La paura primaria È quella Della morte Dobbiamo toglierci Questa cosa Fino a quando C'è la vita Non c'è la morte Quando c'è la morte Non c'è la vita Quindi di che cosa Parliamo Ma è un grosso business È una grossa paura All'interno Del libro C'è la tecnica Psicologica Per cancellarla Si può fare Da soli O in compagnia Meglio Durante i corsi Che io ho fatto Per diversi anni I corsi motivazionali Molti ritornavano Durante questo periodo Per riviversi La morte In tranquillità Perché la prima volta Tutte le varie fasi Classiche Tenevano un po' in tensione Dopo veniva Da godersela Perché io avevo garantito Che si tornava E sono tornati Si sono tornati tutti C'è il problema poi Del perché Una volta Che abbiamo cancellato Quella paura primaria Dobbiamo anche Modificare alcune cose Ma adesso Entrerei Darei la La grossa fortuna In questo percorso È stato Che per necessità Di familiari Cioè Due nipotini Due nipoti Uno di quattro Uno di dodici Ha fatto sì Che della zona Aurea Di San Bartolomeo Al Mare Imperio Dove vivevo Con mia moglie La solita Da molti anni Mi sono dovuto Trasferire Praticamente Quasi sempre In provincia Di Piacenza E lì ho avuto Il caso Diciamo Mi ha fatto incontrare Spazio Tesla Alberto Negri E la moglie Laura Sono i motore Di questo sito Che è molto Molto conosciuto E molto Dinamico Che ha accettato La mia proposta Della musica Che ci salverà Fortuna vuole Che essendo amico Da molti anni O da molte vite Di Manuela Pompas Carmanews.it E io continuo a fare Sempre pubblicitario Editore pubblicitario E mi piace citare Anche gli altri Mi ha detto Ma ho un amico Che si occupa Di musica Perché io ho bisogno Di un garante Di qualcuno Serio Che mi garantisse Che la musica A 432 Hz Fosse veramente Valida E lì Per disgrazia sua Ho conosciuto Capitanata C'è stato Un'intesa Tale Per cui Ha deciso Di pubblicare Lui Per la prima volta Un libro Senza un cd Perché lui pubblica cd E libri con cd Ha condiviso Questo tipo Di avventura Ed è Si è dimostrato Più che all'altezza Di essere Il garante E la voce Della musica Prego Rino Vai Rino E abbiamo ascoltato Anche appunto Un po' Di la tua musica Faremo anche Nel finale Ci siamo occupati Diverse volte Nel nostro percorso Della musica Paolo è andato a mangiare No lo dico Perché è un classico Ormai Della nostra Trasmissione Ma ci basta La sedia Però Ormai Cosa altro Può aggiungere Si si Non c'è problema E Dicevo Abbiamo Parlato Dell'importanza Della musica 432 Hz Ma chi meglio di te Poi Rino Può raccontarci Quali sono i benefici Nell'ascoltatore Ti chiedo anche se Visto che Roberto Citava Il concetto Il supporto Del CD Se oggi Con le piattaforme Digitali Quindi anche con un suono Immagino io Poi dimmi tu Se sbaglio Più compresso Rispetto ai supporti Precedenti Questo va a limitare Un po' L'effetto Della musica Oppure è sempre Lo stesso No Assolutamente no La musica In mp3 Va a perdere Tantissime Delle frequenze Benefiche Che la musica Ci regala Anche l'accordatura 432 Un po' Con le mp3 Si perde Infatti io Continuo ancora A stampare CD E continuo a dire Alle persone Di ascoltare La musica Con un lettore CD Perché le frequenze Arrivano molto di più E sono anche frequenze Che comunque Ci fanno stare bene Insomma Con le mp3 Si abbassano Completamente Certe frequenze Benefiche E Si perdono Dei benefici Che ci fanno Comunque Ci fanno star bene Quando si ascolta Un bel brano Di musica Ispirata Allora La 432 Io dico sempre Che è un'accordatura Importante La musica È nata Con questa Accordatura Mozart Beethoven Suonavano Con questa Accordatura Poi nell'ultima guerra In particolar modo Il popolo Tedesco Chi governava Questo popolo Ha deciso Di spostare Questa accordatura Da 432 A 440 Perché Perché la 432 È un'accordatura Soft Che arriva al cuore Comunque dal cuore Si propaga La 440 Arriva alla mente Loro avevano bisogno Di militari Avevano bisogno Di gente attiva Non gli interessava Far star bene Le persone Far rilassare Le persone Attraverso La musica E quindi Hanno spostato Questa accordatura A 440 Ed è rimasta Ancora così Io già da Credo 18-20 anni Ho recuperato Questa accordatura Ho fatto Diversi lavori Rilanciando Questa accordatura Ci sono anche Altri ricercatori Come Riccardo Tristano Tuis Che lavora Per la mia Etichetta discografica E quindi abbiamo Rilanciato Questa accordatura Io Ho Pubblicato Tre Audiolibri Il libro A più cd Dal nome Il potere curativo Della musica Volume 1 2 e 3 Dove appunto Si parla Di questa frequenza Si parla Dell'importanza Della musica La musica È un linguaggio Importante Che non passa Attraverso la mente Noi non dobbiamo Capire Che cos'è la musica La musica La devi sentire E se la senti E se ti sta emozionando La musica Sta già lavorando Su di te E questa è La grandezza Di questa Di questa scienza Che io ancora Oggi dico È una scienza Che è ancora Tutta da scoprire È una scienza Meravigliosa Infinita Misteriosa Una composizione Molto strutturata Perfetta Può non arrivare Al cuore Mentre una composizione Arrivata in un momento Di grazia In un momento ispirato Può arrivare Ci sono tantissimi esempi Ad esempio Tanto tempo fa Quando c'erano i Beatles Una mattina Presto si alza Paul McCartney Si mette al pianoforte E in tre minuti Compone un brano Meraviglioso Isha E quello è Prendere il momento Di grazia Fallo tuo E trasformarlo Immediatamente Mentre ci sono Delle composizioni Strutturate Che tu Puoi anche Lavorarci Interi mesi Alcuni anche per mesi Ci lavorano Ma non rendono Quella Percezione Quella trasformazione Che si attua Attraverso Un pezzo Ispirato Ecco perché io Dico che la musica È una scienza Tutta ancora Da scoprire Perché è indefinibile Cioè Tu puoi fare Un pezzo perfetto Ma non può arrivare Al cuore Come puoi fare Un pezzo Ispirato Che nasce In un momento Magico E arriva al cuore E quindi Quindi qual è la strada? Lavorare Sulla struttura Musicale Quindi Sulla Perfezione Dell'esecuzione O invece Coltivare I momenti Magici Per Far sì che Il compositore Abbia Un rapporto Con l'ispirazione Ecco perché dico Oggi Io ho aperto Questo Questo canale E sono convinto Che Il compositore Ha bisogno Di Perfezionare Questo canale Quindi Creare un rapporto Un'accoglienza Con I momenti Ispirati Che comunque Tu non puoi Avere potere Su Questi momenti Che arrivano I momenti Ispirati Arrivano Misteriosamente Quando arrivano Decide L'ispirazione Quando arrivare Però è importante Che il compositore Abbia intanto Una vita particolare Abbastanza Insomma Tranquilla Un po' Meditativa Insomma Riflessiva Introspettiva Però il compositore Deve lavorare Nel suo percorso Di musicista Ad accogliere Questi momenti Perché in questi momenti Misteriosi Dell'ispirazione C'è il senso E il valore Della musica Intanto Mi fermo Do spazio Agli altri Paolo Che ci racconti Sulla musica A 432 Scusate ma devo mettere Il microfono Certo Allora Che vi racconto Sulla musica A 432 Guarda Voglio raccontare Un episodio Di tanti anni fa Cosa stai mangiando Per curiosità Un po' di sedano Un po' di sedano Benissimo Sono informazioni importanti Prego Fondamentali Allora Anni fa Mi Telefonò Una persona Per chiedere Un consiglio legale Lui aveva Una Una fabbrica Di amplificatori E Gli erano cominciati A capitare Casini a go go Cioè Ispezione della finanza L'agenzia delle entrate Che l'aveva mandata in rovina Insomma Un disastro Su tutta la linea Io dico Ma strano Ma che hai fatto A qualcuno Hai pestato i piedi Ma io Insomma Per farla breve Scavando Scavando Vengo a scoprire Che Questo produceva Dei amplificatori Che Prendevano E tra l'altro Lui vendeva anche all'estero E quindi era anche Un imprenditore di successo Insomma Conosciuto nel mondo E vengo A scoprire E quindi a capire Lì c'ho l'intuizione Lui che cosa faceva Con Questi amplificatori Aveva scoperto Un modo per Trasformare La musica Ordinaria In musica A 432 hertz Quindi praticamente Tu qualunque Pezzo mandassi Da un hi-fi Su questi amplificatori Veniva trasformata In musica A 432 hertz Gli si era scatenato L'inferno E questo dimostra Secondo me Era la prova provata Io già avevo letto qualcosa Sulla musica A 432 hertz Ma stiamo parlando Di 15 anni fa Quindi quando sapevo Molto poco E quindi Ho scoperto Cioè ho capito lì Siccome avevo letto Appunto dell'importanza Della musica Un bel giorno Hanno cambiato La frequenza Del diapason L'hanno alterata Proprio Hanno fatto una riunione Mi pare a Londra Adesso non ricordo dove Proprio Hanno scientificamente Detto Ok il diapason Lo accordiamo In un altro modo E quindi hanno alterato La frequenza Vibrazionale Che c'era Anni prima Ma è questo successo Adesso non ricordo più La data Perché non mi ero preparato In Germania L'ultima guerra Ok E E quindi Si era scatenato L'inferno Lì ho capito L'importanza Della musica A 432 hertz E poi Quindi anche L'importanza Del progetto Di Di Roberto E di Capitanata E tra l'altro Per questo Anche la musica Di Capitanata Era importante Perché proprio In quel periodo Capì Quel tipo di musica Vabbè non è l'unica La sua Chiaramente a 432 hertz Ma ne capì L'importanza E cominciai A sentirla Tra l'altro Racconto un altro episodio Che mi fece capire L'importanza Della frequenza Perché Che cosa è successo Che io Ero un amante Della musica Ho fatto il DJ Per anni Per circa Vabbè non mi ricordo Forse una decina d'anni È stata un'esperienza Bellissima Della mia vita Mi piaceva proprio Facevo le classiche Programmi di dediche Che si fanno Alle radio private E facevo Quindi E poi facevo anche Programmi solo di musica Sono un amante Della disco Pensate che Tutto ora Quando vado in macchina Magari Non sempre Capitanata A volte Mi metto Gigi D'Agostino Mi piace tantissimo Lo metto a palla Proprio come sapete Tamarri Di periferia E sento L'amor to jour Oppure queste qua Ovviamente Non lo faccio In mezzo Alla strada Però Che cosa Voglio dire Con questo Che insomma Era un amante Della musica Non andavo Da nessuna parte Senza musica Ora a un certo punto Ho incontrato Il buddismo E ho cominciato A recitare Il mantra Dopo qualche giorno Io ho provato Una stranissima Sensazione Di fastidio Per tutta la musica Che usciva Dagli amplificatori Della cosa normale Cioè io amante Di certi personaggi Non sono più riuscito E tuttora Non riesco più Ad ascoltare Quasi nulla In realtà Cosa ascolto La musica popolare Quella mi piace molto E l'ascolto La musica cosiddetta New Age Anche quella che metti tu Fabio Mi piace tantissimo La Chill Out Infatti dei pezzi Mi piacciono molti Ascolto la musica A 432 Hz Oppure autori Come Chitaro Quello Mi piace Da morire Ma non riesco più Ad ascoltare Autori che pure Un tempo Mi piacevano E che continuano A piacermi Cioè mi rendo conto Che quel tipo di musica Mi piace Ma per me È diventata inascoltabile Sto parlando Del 90% Della roba Che sta in giro E Per un tanto tempo Non ho capito perché Finché Questo Personaggio Che io Ho conosciuto Che aveva questa ditta Adesso poi forse Mi viene pure il nome In mente Non mi disse Perché gliene parlai Di questa cosa Lui mi disse Guarda probabilmente La tua frequenza Vibrazionale Si è alzata E quindi ti dà fastidio La musica Ordinaria Che è prodotta Per abbassare le frequenze All'essere umano Certo E quindi io adesso È come se fossi incompatibile Con certe frequenze Non riesco più a sentire Ecco Ascolto molto musica sacra Musica religiosa Quella Quella sì Quindi anche Musiche sacre Dell'Islam Musiche sacre Ebrei Anab Koak Un pezzo stupendo È così Però la musica Normale Ordinaria Dei complessi E mi dà Una sensazione Di stridore Di fastidio Che per me Ripeto È inascoltabile Se metto un disco Di Capitanata C'è un disco Non esistono più dischi Una musica Di Capitanata E ne ho diverse L'ascolto L'ascolto volentieri Mi dà un senso Di rilassatezza E non mi dà fastidio Ma una cosa Che volevo dire Degli anni passati Io ricordo Che quando Ci fu il boom De Pink Floyd Che tutti ascoltavano De Pink Floyd Io Quando Ascoltavo Questi brani De Pink Floyd A un certo punto Tutta l'altra musica Un po' quello che dice Il nostro amico Non mi interessava più C'era qualcosa Di misterioso Di Di Profondo In questa musica E adesso Abbiamo scoperto Dopo tutti questi anni Che loro Già allora Utilizzavano L'accordatura A 432 Ah ecco Il tuo inconscio Percepisce Delle verità C'è poco da fare Ecco perché Io dico C'è La musica In un certo modo Per arrivare dentro Perché la musica Deve Aprirci La musica Deve Liberarci La musica Ci deve far Stare bene La musica Ci deve dare intuizioni La musica Ci deve descrivere Mondi indescrivibili Questa è la funzione Della musica La musica Viene da montano Viene dal cosmo C'era Pitagora Che immaginava Cioè immaginava Intuiti Che immaginava Che i pianeti Che girassero intorno al sole Emettessero un'armonia E quindi Veramente È una scienza Tutta da scoprire Non abbiamo ancora Scoperto Quasi nulla E poi una cosa Voglio finire Un concetto Importante Per capire anche La funzione Della musica La musica Nell'antica Grecia Era utilizzata Solamente Per Collegare Le persone Al trascendente Era un qualcosa Di divino Infatti Tutti i Filosofi Greci Dicevano Che la musica Era Una sorta di Educatore Per l'anima Umana Ok Quando Roma Conquista la Grecia E scopre Quest'arte Capisce La potenza Ma quando La porta a Roma Cosa succede? Che la mette Al servizio Del potere Ed è rimasto Un po' più o meno Così Cioè La musica Che aveva Questa unica Unica Funzione È quella Di collegare L'uomo Al trascendente Alla sua Anima Arrivata a Roma Questa arte Viene messa A disposizione Del potere Visto quello Che diceva Anche Paolo Del fatto Appunto Che una certa Musica Ci infastidisce O comunque A me capita Spesso E poi Questo però Va di pari Poi a volte C'è una forma Di malinconia Che quasi Inconsciamente Ricerchiamo Ci crogioliamo Della sensazione Negativa Che magari Un brano Che poi se uno Guarda il testo Magari invece Parla di cose Tranquille Di cose anche Apparentemente positive Però a me Provoca una reazione Opposta O pensiamo anche I brani in inglese Che sono sostanzialmente Sconosciuti Per lo più Che non capisce Neanche il significato Però c'è qualcosa Che smuove dentro Nel bene O nel male Comunque è in negativo In questi casi Ecco Paolo dice Può esserci La costruzione Voluta Nell'abbassare Le frequenze Può anche essere Che l'autore Ha trasposto In questa musica Qualcosa Di negativo Che ha lui A livello spirituale Come si spiega Con questa sensazione Magari negativa Che provoca Un brano pop Per dire Allora Se ti ispira La malinconia La malinconia È una sensazione Da coltivare Perché la malinconia È una zona Di confine E Se tu Non hai paura Nella malinconia Ti si aprono Delle Delle percezioni Spettacolari Quello che dicevo Prima La musica Allora La musica Non passa Dalla mente L'ho detto prima Arriva direttamente Dentro Se la musica Ti sta facendo Star bene L'opera Dal compositore È ok Se la musica Ti sta Disturbando Ti sta creando Delle Disarmonie interne Non è una buona Composizione E quindi Il compositore Ha fatto Delle musiche In un momento Sbagliato E quindi Bisogna difendersi Anche da queste Da queste musiche Che non ci fanno Star bene Cioè la musica Deve Solamente E unicamente Elevare L'animo Se Ha questa funzione Oppure anche Di rilassarci E quindi A volte Rilassandoci Noi entriamo In certi mondi Della fantasia Delle nostre immagini Perché noi siamo Dalla mattina Alla sera Sommessi Da immagini Dai film Delle previsioni Delle giornali Eccetera Ma noi dobbiamo Riprendere in mano Le nostre immagini Che sono uniche E ripetibili In ognuno di noi E la musica Ha anche questa funzione Di liberare Le nostre immagini Che sono solamente Nostre E attraverso Queste immagini Noi scopriamo Anche Chi realmente siamo Roberto Vogliamo far vedere Quell'esperimento Vediamoci un attimo Sì Come pubblicitario E titolare Per anni Di un'agenzia Di pubblicità Io devo garantire Che il prodotto Si venda Sì Sono un creativo Ma se Crea una campagna Pubblicitaria Che non fa vendere Il cliente L'anno dopo Non mi rinnova Il contratto Quindi per me Questo progetto È un progetto Che deve Rendere Rendere a chi? Salvare il mondo? Meglio Ma deve rendere Ognuno di noi Perché ognuno di noi? Perché la fisica Quantistica Io ho avuto la fortuna Di scoprirla Molti anni fa Dice che Siamo tutti Uno Per cui Se io sono egoista Aiuto gli altri Perché mi aspetto Di avere in cambio Qualcosa di positivo Per me Se sono altruista Aiuto gli altri Aiutando gli altri Aiuto me Quindi Ricomincio da io Questo progetto Deve far sì Che invece Anni fa io pubblicizzavo Kinder Più latte Meno cacao Adesso direi Più musica Meno parole Non che non debbano Continuare le parole Ma la musica Deve essere vista Come una flebu Personale Che io mi posso mettere Come sottofondo E abbiamo capito Anche per sperimentazioni Sperimentazioni Che oggi sono fatti In ospedale Utilizzando Questo tipo di musica Ma in internet Si trovano I beat Bach Beethoven A 432 È vero Che l'effetto Non sarà Perfetto Ma noi Con questo progetto La musica Ci servirà Stiamo lavorando Alla creazione Di una forma Pensiero È importante La forma Pensiero L'atteggiamento Con cui lo sento Perché Cosa succede Quando io Metto una certa musica Una certa frequenza Quindi non parola Una certa frequenza Succede quello Che Fabio oggi Adesso fa vedere Un esperimento Di Cimatica Si chiama Trego Trego Succede 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 una massa critica tale è questa massa critica musicale che creerà l'armonia al di là delle parole che si diranno sotto quindi questo è il lavoro da fare anche perché e veniamo qui ad argomenti che io tratto nel mio manuale per le lavatrici come si cancella il paura virus nessun uomo mai è arrivato a vivere due secondi dopo non c'è mai arrivato nessuno a due secondi dopo perché viviamo un istante per volta ah beh certo è vero ce lo dice anche la fisica quantistica che oggi forse è fin troppo usata arriveremo a avere anche la cartigenica quantistica allora io ho soltanto un istante da vivere, questo come lo vivo? di che cosa mi devo occupare io? soltanto di questo istante ma se esiste solo un istante vuol dire automaticamente fisica quantistica che non c'è nello spazio e nel tempo ma io vivo in un mondo duale io ho creato il computer su base 2, 0, 1 bene io vivo in un mondo duale ma mi devo occupare in realtà di questo unico istante che vivo cercando di vivere al meglio perché se non lo faccio io chi lo deve fare vivere al meglio vuol dire che posso applicare la legge su base 2 come? mi piace, non mi piace mi serve, non mi serve questo è il lavoro da fare cioè diventare padrone di se stessi ma quando dico io chi dico? io ho un corpo ma non sono il mio corpo ho una mente ma non sono la mia mente ho delle emozioni ma non sono le emozioni chi sono io? riferimento Romana Marsh io sono quella cosa che vede attraverso gli occhi ma non negli occhi diventare padrone dell'istante ci vuole qualche giorno con mi piace, non mi piace mi serve, non mi serve crea il dominio di se stessi e automaticamente condiziona anche chi è attorno a me perché succede l'effetto che abbiamo visto con questo esperimento di cimatica questo è da fare però dobbiamo anche sapere intanto chi sono io e quanti anni ho veramente io a giugno il mio corpo compirà 80 anni il mio corpo ma fortunatamente io io sono io sono uno che da molti anni a 17 anni vado per i 18 non riesco a diventare maggiorenne se fossi convinto di essere solo il mio corpo mi suiciderei cosa sto a fare ma il ragazzo non il bambino il ragazzo che c'è in me è statisticamente l'età è dai 15 ai 18 anni è quello che fa sì che io goda ancora a giocare con mio nipote poi la festa del papà della mamma il cardevale tutti noi giochiamo l'uomo in realtà non vuole la felicità l'uomo vuole giocare che felicità ci può essere come Mesner che ha scalato tutti gli 8000 metri senza l'ossigeno ma il gioco è la base l'ila dicono gli erettari però devo diventare un professionista del gioco come faccio a sapere quanti anni ho mi metto davanti a uno specchio lo specchio trasmette la mia immagine la mia persona persona vuol dire maschera e mi chiedo chiedo la mia maschera quanti anni ho la maschera risponde che cosa succede che quando un trentenne dice di avere di sentirsi 70 anni vuol dire che ha dei grossi problemi che deve risolvere che deve lavorare lì per abbassare l'età e istantaneamente noi lo sappiamo abbiamo questo controllore interno Angelo Custode campanellino inconscio chiamatelo come volete deve abbassare quello per tornare a questa età standard le donne molte volte dicono mi sento 12 anni sì tornano ragazzine il novantenne che scappa con la quarantena ma lui ha 15 anni 16 e dice agli amici vado anche con una più vecchia allora dobbiamo stabilire qual è la nostra età e di lì tenere d'occhio di poter ritornare alla nostra gioventù statisticamente va dai 15 ai 18 anni siccome nessuno è mai arrivato a due secondi dopo applichiamo mi piace non mi piace mi serve non mi serve ma succede che noi andando nel mondo fenomenico andiamo a dormire nello stato di veglia cioè adesso noi ci facciamo un sacco di domande chi sono dove andiamo chi siamo eccetera poi andiamo a dormire e nello stato di sonno profondo stato di REM cominciamo a sognare possiamo vederlo perché ci mettiamo dei piccoli cosini lì e stabiliamo con gli sperimentatori che hanno le loro macchine che sono in grado di definire i tempi stabiliamo che dopo due secondi in cui io sono nello stato di sonno profondo svegliamo il ragazzuolo bene vediamo che questo va nello stato di sonno profondo e lo svegliamo dopo due secondi e gli diciamo cosa stavi sognando e noi parlo per due ore nello stato di sonno profondo i due secondi per me che dico di essere sveglio per lui sono vite addirittura io mi trovo sogno di essere a Parigi sulla torre vedo il Franceschetti sotto arrivo mi butto giù e scomparsa la luce mi sono buttato nel tempo in cui mi sono buttato giù cado mi rialzo perché non mi chiedo perché non sono morto eppure lo stato di sonno profondo è altrettanto reale perché gli incubi che abbiamo lì sono molto più forti anche di quelli che possiamo avere durante la vita nello stato di sonno profondo non mi chiedo perché non sono morto perché non esiste la domanda perché quindi la mia vita è fatta di un periodo diciamo sedici ore in cui io dico che sono vivo e mi faccio un sacco di domande è di un periodo diciamo otto ore in cui non c'è la domanda i cosiddetti realizzati dicono che fino a quando non avrai il potere sulle 24 ore che sono un artificio non ti sarai realizzato ma è importante che noi capiamo questa cosa qui un istante questo istante può essere l'ultimo ma è anche il primo dell'inizio dei nostri istanti come riesco a diventare padrone dell'istante mi piace non mi piace mi serve non mi serve che può anche voler dire che accetto una cosa che non mi piace ma il conduttore dell'automobile che lo sta decidendo in una frazione di secondo e vedrete come in poco tempo anche attorno a voi si armonizza il tutto come utilizzando la musica in particolare 432 hertz o questi esperimenti di cimatica ne potete trovare altri anche in internet bene io vi ringrazio tantissimo dimmi Rino vuoi chiudere e aggiungere qualcosa in chiusura si da un punto di vista da artista da musicista da pittore che sono pure si è come se dentro di noi ci fossero due realtà c'è una parte eterna e una parte temporale se tu vivi nell'anima non c'è lo spazio-tempo se vivi nella mente c'è lo spazio-tempo la musica ti fa vivere nell'anima ecco perché ti si amano dei mondi infiniti bellissimo io ringrazio veramente vi ringrazio di cuore grazie a Roberto Romiti che ritroveremo sicuramente così come Rino Capitanata adesso vi salutiamo con un'altra sua straordinaria musica grazie a Paolo Franceschetti e ci salutiamo con Presence of Angels grazie davvero e alla prossima grazie ciao Rino ciao Roberto grazie a voi 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 sei dalla colonna sonora quindi è il momento di salutare un sempre più popolare, stiamo infatti anche predisponendo un tour Paolo Franceschetti, ciao Paolo ciao Fabio, in che senso? io penso che tu abbia avuto un boom anche di contatti, non solo di contatti relativi e di esperienze particolari, relativi agli argomenti di cui parli ma credo che sia un momento in cui anche grazie a questi interventi Paolo, tante persone vogliono mettersi in contatto con te perché ci scrivono e io dico a tutti, iscrivete a la tua email che è drag-star-hotmail.it come non mai, dicai Paolo quindi bene così sì, di questo sono contento però faccio una precitazione, che io racconto quello che imparo via via nella vita come ho fatto con la rosa rossa, con tutte queste cose qua ma di fatto poi non è che sono un cazzo, cioè nel senso io studio, studio faccio esperienze, racconto, poi però non è che sono un esperto delle cose di cui parlo quindi occhio a quelli che mi chiedono poi c'ho questo problema ma io non riesco a risolvere nessun problema nessuno, insomma ecco questo è è il punto, ne so più di quello che dico molti mi dicono vorrei che tu mi dicessi mi istruissi su, mi spiegavi ma no, io quello che so lo racconto e finisce lì proprio guarda proprio prima della trasmissione parlavo con un nostro ascoltatore dal Brasile che è un iniziato a delle confraternite brasiliane che mi diceva però Paolo tu mi sembri un iniziato io ho detto no io non sono iniziato a niente anzi addirittura tempo fa ho fatto richiesta per entrare in una fratellanza che mi sembrava più pulita di altre che è piccolissima con pochissime persone nel mondo insomma poche e tra l'altro pure e quindi ho detto ah che bello entro quando cioè ho fatto il primo colloquio mi ha detto ah mi raccomando dovrai mantenere il segreto su le cose che apprenderai qui io ho detto il segreto no guardate per me il segreto non esiste cioè io per me la trasparenza è un valore assoluto e tutto quello che so lo dico ma perché non lo devo dire certo se mi insegnate una parola di potere un rito male non è che mi metta a insegnare a ridire perché non voglio insegnare magia o rivelare parole di potere che so che non siano però cioè se io capisco una cosa di come funziona per esempio l'argomento di cui parleremo oggi Satana e Lucifero se io capisco qualcosa grazie alle cose vostre come faccio a distinguere il segreto e no e quindi mi mettono no guarda non sei pronto non ti possiamo accettare e ho detto vabbè ecco quindi non è che non sono iniziato a un cazzo come ho detto a questo qui anzi diciamo che sono proprio all'inizio ma il percorso spirituale è un'altra cosa il vero percorso spirituale rispetto a quello che faccio io che è appunto un percorso forse più di conoscenza ma la conoscenza è molto diversa dalla spiritualità e anzi qui Fabio quindi introduciamo perché Lucifero porta la conoscenza ma la conoscenza non è l'elevazione spirituale la conoscenza dà una sorta di potere dà qualcosa di esterno ma non ha niente a che vedere con l'iniziazione che è uno stato dell'essere quello reale poi c'è l'iniziazione formale quando mi danno l'iniziazione in una loggia o in una fratellanza ho preso l'iniziazione al kriya yoga ho preso l'iniziazione anche addirittura al taoismo anni fa c'ho ancora orgogliosamente la mia tessera di iniziazione al taoismo ma non significa che sono un esperto taoista e che ho fatto il lavoro interiore di un maestro taoista che è un'altra cosa ok quindi Fabio vado quindi Satana e Lucifero non sono la stessa cosa? allora vengono distinti ma in realtà sono la stessa cosa è solo a un grado differente e Satana si può identificare con il male assoluto Lucifero è la tentazione e tramite la tentazione si arriva al male assoluto Lucifero in realtà porta la conoscenza che è una tentazione perché quando c'è la conoscenza sei tentato di fare il maestro sei tentato di fare il figo sei tentato di apparire ma è un apparire non è un essere quando ti dà Lucifero ti soddisfa i desideri te ne soddisfa sempre di più sempre di più sempre di più e alla fine arrivi alla dissoluzione totale se non stai attento a cosa desideri quindi partiamo con ordine ho preparato un'altra scaletta no no vai poche vai poche io mi sono no no vabbè ma mica era per darti una critica è andata come è andata e la lasciamo fluire l'importante è che poi i concetti che voglio dire alla fine li esprimerò cioè ho preparato tutta una un papiello che si fa ecco la conoscenza il papiello dotto evoluto Isaia tutte cazzate solo nel libro di Enoch c'è un po' la figura di Lucifero ma Satana è un'invenzione della chiesa cattolica i massoni qualcuno dice che Satana non esiste e allora qualcuno replica la peggiore la migliore furbizza di Satana è far credere che non esiste chi ha ragione tutte e due lo vedremo però lo vedremo alla fine di tutti i discorsi che farò racconterò tante cose racconterò delle mie esperienze delle esperienze di personaggi politici racconterò di Bartolomeo Pepe la sua esperienza nella politica racconterò di Solange racconterò ancora una volta della mia amica Raelle questa volta però non del rapporto tra me e lei ma di una cosa bellissima che è archetipica di come le anime vengano combattute tra il bene e il male e un rapporto tra lei e il padre che però lo vedremo fra poco insomma per capire come funziona il male cos'è Satana e cos'è Lucifero e vedremo che c'è una gran confusione chi prova a studiare queste cose dal punto di vista dotto allora Lucifero è il portatore di luce Satana invece è l'avversario e tutta una serie di parole al vento che però non ti dicono esattamente la natura di queste due figure ma uno spunto è proprio il telefilm Lucifer che noi abbiamo analizzato in Lucifer non c'è il demonio ci sono tanti demoni e guardate allora parto da una cosa che volevo partire alla fine un ascoltatore mi scrive una cosa molto carina mi dice una cosa che avevo notato dice Paolo non so se hai notato che nell'ultimo episodio della prima stagione la vittima è una giovane donna di nome Rose e non è un caso la ragazza viene pugnalata al petto durante un rito sacrificale organizzato da una setta satanica e sulla sua schiena le viene incisa la scritta Hi Lucifer e già e poi dice riguardando la scena da dove viene ritrovato il cadavere della ragazza da un punto di vista di scrittura cinematografica televisiva mi sono reso conto che viene menzionato un dettaglio superficiale e non funzionale all'arco narrativa che la vittima viveva al numero 1625 di Lynn Rose e a casa della ragazza Lucifer e Chloe scoprono una stanza segreta dove erano fatti dei rituali saranno tutte coincidenze mi scrive questo lettore no che cosa vogliono dire con questo passaggio del telefilm Lucifer che la via di Lucifero può portare alla via direttamente di Satana anche se i satanisti dicono no non siamo luciferini Lucifero non è Satana Lucifero è il portatore di luce la verità è che negli atti degli apostoli nei Vangeli nella Bibbia e anche negli apocrifi della Bibbia c'è una gran confusione di nomi non si capisce bene Belzebù Elial il maligno Lucifero Satana il grande accusatore addirittura nell'apocalisse Cristo si definisce Lucifero stella radiosa del mattino capitolo 22 e promette la stella del mattino come ricompensa per chi persevera nelle buone opere ma la stella del mattino è Venere che infatti è confusa con Lucifero non è confusa si parla di Venere come della stella del mattino e Lucifero è la cosiddetta stella del mattino insomma ci si capisce un cazzo allora quindi sfrondiamo diciamo dalle dotte di squisizioni dei sapienti la figura di Satana e Lucifero e cerchiamo di inquadrarla dal punto di vista reale cioè come opera nella realtà chissò che è questa figura la conclusione la tiriamo alla fine adesso mi limito a dire a fare una premessa se noi studiamo una figura satanica un'entità un angelo un demone ci devono essere riferimenti anche nelle altre culture quindi io devo trovare riferimenti nello sciamanesimo nel buddismo nell'induismo altrimenti e devo capire a cosa corrispondono perché spesso sono solo anzi sempre sono sempre nomi diversi per raffigurare la stessa cosa allora ci sono questi demoni sì ci sono nel buddismo nell'induismo però guarda caso per esempio nell'induismo l'avversario feroce di Krishna è Kamsa che è un demone ma è anche un re perché il messaggio è chiaro ma lo vedremo alla fine qual è questo messaggio di Kamsa che è un re Steiner forse è quello che ne parla meglio di tutti perché dà una spiegazione dogmatica cioè dico chiaramente non c'è nella Bibbia nei Vangeli una spiegazione proprio della figura di Satana come nasce chi è ogni tanto buttano là che è il grande accusatore che è l'avversario che è questo che è quest'altro di Lucifero c'è un po' di più c'è la spiegazione della sua storia che è un angelo però non è un demone è un angelo caduto certo caduto in tentazione che si ribella a Dio ma sempre angelo è infatti Lucifer nel telefilm chiama Dio padre è incazzato col padre e questo l'abbiamo anche detto nelle puntate precedenti di A ruota libera bene allora Steiner ne parla molto meglio perché mutua i suoi concetti dal mazdeismo lui parla di Arimane e di Lucifero Arimane che vuole legare indissolubilmente l'uomo alla materia per distoglierlo dalla via dello spirito e Lucifero che invece vorrebbe dare all'uomo ciò che desidera ecco i desideri di Lucifer però qual è il problema? che gli dà i desideri senza che lui faccia un lavoro interiore e il problema è che quando ti danno quello che desideri soldi ricchezza potere senza che tu hai fatto un lavoro interiore vai dritto dritto alla via di Satana al male assoluto le due forze quindi lavorano in collegamento cioè Satana lavora in collegamento con Lucifero ma sono la stessa cosa di fatto perché Yogananda dice per fare un vero percorso spirituale bisogna avverare i desideri tutti l'ho detto nella volta scorsa perché la sua carcai dice i desideri sono illuminazione perché appunto prima bisogna capire che i desideri materiali non danno la felicità però per capirlo devi anche fare un lavoro spirituale altrimenti cosa succede? succede che ti danno quello che desideri e tu vuoi sempre di più e non ti basta mai e alla fine arrivi al male assoluto anche perché non ti danno certe forze non ti danno quello che desideri gratis prima o poi vengono a chiederti il prezzo vediamo per esempio Berlusconi che realizza una serie di desideri grazie all'inizio della sua carriera un imprenditore di successo intelligente da Banca Rasini è quello che lo finanzia dove lavorava il padre tutte queste cose le ha raccontate benissimo Travaglio adesso sintetizzo molto e gli danno tutto quello che vuole ma non gli basta mai poi a un certo punto però gli chiedono il conto e il conto è adesso o entri in politica o ti facciamo un culo così ecco perché gli fanno 300 ispezioni fiscali in un anno la finanza lo massacrano lui capisce il messaggio capisce che non può esimersi dall'entrare in politica ma lui non voleva entrare in politica alla fine ci entra si trova pure bene perché è un po' narcisista perché poi alla fine però ha le mani legate lui da uomo intelligente qual era sa che una volta che entra in politica hai le mani legate non puoi fare più niente perché non sei più libero perché ci sono forze più grandi di te che reclamano qualcosa e ti chiedono il conto e voglio raccontare la storia sia pure in breve di un mio carissimo amico che adesso è morto purtroppo che è Bartolomeo Pepe e la storia è in parallelo perché sono entrati insieme e hanno un percorso simile che a un certo punto si divide che è Luigi Di Maio il nostro attuale ministro che è degli esteri ma come ricordati che ministro è allora sì degli esteri meravigliosa immagine che diamo agli esteri specialmente con le ultime figure che ha fatto Bartolomeo Pepe io avevo un rapporto d'affetto proprio con lui perché con me ha dimostrato affetto cuore ha fatto tantissimo per me e Bartolomeo come Di Maio era una persona pura erano due persone pure che entrano in politica senza manco sapere perché Bartolomeo entra con poche decine di voti e pure Di Maio non lo conosceva nessuno non l'ha votato di nessuno di fatto sono dei signori nessuno Bartolomeo era un muratore Di Maio era un bibitaro come ricordano tutti era una persona semplice carina, dolce chi lo conosce dall'epoca diceva questo all'interno del sistema cominciano una serie di tentazioni ti danno tante cose che tu desideri a seconda poi dei tuoi punti deboli perché certe persone chi è nel sistema è addestrato a conoscere i tuoi desideri a darti quello che vuoi Bartolomeo ha resistito ha sempre cercato di fare un lavoro puro infatti a un certo punto lui che fa viene buttato fuori dalla politica prima entra il gruppo misto e poi non verrà riletto Di Maio sì perché Di Maio forse era più debole di Bartolomeo più puro per certi versi e si lascia incastrare e via 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 sempre di più ecco che a un certo punto non si può più esimere e quindi ecco che arriva per esempio a fare quelle dichiarazioni pazzesche su Putin di recente non si rende conto che partecipa a un sistema satanico la guerra chiunque la scateni è un'atrocità quello è il male assoluto quello è Satana e chi la scatena non un singolo uomo ma singoli uomini che partecipano a un progetto comune quello è Satana di cui tu fai parte senza rendertene conto di cui tu Di Maio e tutti quelli che mettono la firma su queste su queste cose così funziona il male questo è Lucifero ti tenta con la politica poi ti danno un'altra tentazione poi ti danno un altro vantaggino poi ti danno magari ti affiancano normalmente una donna se sei uomo o viceversa che è nel potere e sa bene come sedurti e portarti sempre di più in quella direzione quindi si lavora in due direzioni desideri materiali e affetti diciamo così e amore queste sono le due direzioni che ti incastrano Bartolomeo aveva una donna che io ho conosciuto che amava stupenda meravigliosa che gli stava vicino con cui hanno hanno presa come un'avventura spirituale insieme questa della politica in cui hanno cercato di fare del bene insieme e infatti con me lui appena divenne senatore mi scrisse e mi disse Paolo io c'ho ancora la sua il suo messaggio facebook mi disse Paolo adesso che sono diventato senatore ti seguo da anni non ci conosciamo vorrei fare qualcosa per te e io gli dissi Bartolomeo forse non hai ancora ben capito come funziona la politica forse dovresti più chiederti cosa posso io fare per te non il contrario perché non credo che tu possa fare nulla perché siamo in un sistema in cui te ne renderai conto non si può fare nulla andammo infatti insieme io e Bartolomeo da Fausto Carotenuto che gli dette dei consigli sulla politica e capì tanto perché Bartolomeo era una persona molto intelligente capì in che cazzo di sistema era finito infatti poi dopo mi disse Paolo io praticamente sono stato fregato ho capito che mi vogliono fregare cercherò di non farmi fregare vedremo quello che riusciremo a fare allora voglio raccontare adesso un'altra storia archetipica poi di tutte queste storie trarremo le fila nella conclusione di questa trasmissione ancora una volta parlo della mia amica Raelle che è stata una delle esperienze più straordinarie della mia vita sicuramente quella più magica quella più coinvolgente e quindi ci sono tanti spunti nella sua storia però questa volta non parlo di me e lei ma parlo appunto proprio della sua vita da quando è nata da quando era piccola dal primo giorno nella sua culla e parlo di un libro che ha segnato ancora una volta molto la mia vita non perché mi ha insegnato molto ma perché racconta metaforicamente la lotta tra il bene e il male e questo libro è De Rasine di Naomi Novik in italiano Cuore Oscuro e adesso spiego poi perché ha avuto questa importanza allora come conosco Raelle la conosco perché mi chiama mi la sento perché perché volevo una consulenza su due problemi il primo era che da quando era nata fin dal primo giorno sulla culla apparve una rosa rossa e poi tutti gli anni ai suoi compleanni riceveva una rosa rossa e dice io dovunque stia anche all'estero anche che sto in albergo la rosa mi viene recapitata e mi si materializza non so chi la porta anche perché talvolta c'avevo il portiere che non aveva visto entrare nessuno ma c'era questa rosa secondo problema quando si arrabbiava uccideva le persone ha detto guarda è successa una cosa al lavoro mi sono incazzata perché ho perso la testa con una collega e poi è morto il marito due giorni dopo e io questa cosa la devo evitare perché quando maledico le persone fin da quando sono piccola purtroppo succede un casino e la sua storia quindi parte da lontano parte quindi da questa rosa che trova sulla culla questa bambina straordinaria eccezionale con dei poteri magici che già il padre si rende conto che era una bambina particolare il padre era un massone in posti di potere e partiva in banca e aveva delle parentele che gli garantiscono che gli garantivano una carriera sempre più brillante ma si accorge della straordinarietà di questa bambina capisce il messaggio della rosa sulla culla e allora che fa da una parte cercano la nonna era una zingara di tradizioni zingara gli insegna l'arte della magia cerca di fargli controllare questi poteri quando lei si incazza con qualcuno già quando aveva 4-5 anni cioè immaginiamoci sta bambina con queste guanciotte già incazzosa quando era piccola che quando malediva qualcuno questo qualcuno purtroppo gli succedeva un casino allora la nonna cerca di insegnargli la magia cerca di insegnargli a controllare queste forze il padre invece che cosa fa capisce che gli chiederanno un prezzo per il suo potere continuo e il prezzo è la figlia e i poteri della figlia perché alcune fratellanze deviate che cosa fanno acquisiscono potere tramite queste persone che sono persone già potenti di loro che hanno questi poteri e li chiedono in cambio ai genitori perché è il loro percorso naturale il padre capisce e rinuncia a tutto quindi si trasferisce in una piccola sede di provincia ringrazia tutte le persone attorno a lui di quello che gli hanno dato fino a quel momento dei soldi del potere che ha avuto dice lasciatemi in pace però non voglio più carriera voglio solo stare tranquilla e per amore di questa bambina si ritira da tutto e cerca di preservarla per tutta la vita e quando lei da grande diventa medico cercheranno sempre di dargli sempre più potere cercano di proporla dove va a posti sempre di più elevata responsabilità ma lei che è di tradizione zingare scappa appena gli propongono avanzamenti in carriera da cui non può esimersi semplicemente cambia ospedale e va e ricomincia da capo da medico diciamo semplice anestesista reanimatore perché cerca di rinunciare al potere capisce le trappole e l'anno che ci conoscemmo ci conoscemmo prossimamente dal suo compleanno invece della rosa compare nella cassetta delle lettere il romanzo Naomi Novik De Rasine poi in italiano qualche anno dopo venne stampato in italiano col titolo Cuore Oscuro di che parla questo Cuore Oscuro della rosia che divora le persone le rende dei vegetali non un'organizzazione questo è un romanzo fantasy ma questa rosia che non a caso si chiama rosia prende le persone fa perdere loro la coscienza è una storia tra un mago e una strega che si conoscono il mago addestra la strega ai suoi poteri magici gli fa scoprire i suoi poteri magici e c'è anche un concetto fondamentale della verità come l'incantesimo più potente che si può fare in questo romanzo c'è sostanzialmente la storia del tipo di magia del tipo di entità e tante cose che riguardano la vita di Rahel e questo concetto della verità come l'incantesimo più potente è il concetto legato a Lucifer e ai desideri perché che c'entra con la verità capire la verità su noi stessi significa liberarci dalle catene che ci legano liberarci dalle nostre illusioni desiderare le cose giuste non cose che sono solo illusione e la verità su qualunque cosa è l'incantesimo più potente che noi possiamo fare per esempio per liberarci da fatture malocchi maledizioni lavorando su noi stessi con la massima centratura cosa che purtroppo è per pochi in questa vita comunque ci si può teoricamente liberare da soli di fatture malocchi e maledizioni che non attecchiscono sull'illuminato su chi ha veramente realizzato se stesso e realizzare poi il desiderio di una persona Lucifer che realizza i desideri è fargli un incantesimo è legarlo a lui ecco anche un mio legame morboso con Raelle con l'entità perché mi ha realizzato tutti i desideri nella mia vita tutto quello che ho desiderato me l'ha dato però il problema è che non l'ho realizzato grazie a un lavoro interiore e quindi l'ho pagata cara poi questo desiderio che mi ha dato e la pagano cara tutti quelli che si legano a Raelle comunque lei scappa nella sua vita da queste trappole nel periodo che io e lei avevamo questo rapporto non si sa quante persone gli hanno offerto potere e venivano tutti da quell'ambiente là Jean-Pierre Giudicelli per esempio che è un personaggio abbastanza noto nell'ambito delle confraternite esoteriche un giorno la incontrò e gli offrì una casa non dico gratis ma insomma quasi offrendosi di fargli il trappolo fu gentilissimo chiaro che avrebbe voluto in qualche modo incastrare all'epoca io dissi guarda se tu accetti una casa da Jean-Pierre Giudicelli non dico chi è chi vuole fare una ricerca insomma è un personaggio ben noto a certe cronache perché il suo libro pur la Rose Rouge e la Croadora è stato anche acquisito agli atti del mostro di Firenze io ho avuto modo anche di parlarci al telefono con questo Jean-Pierre Giudicelli e insomma però io ho detto guarda se accetti una casa da lui io non mi dispiace ma non ci vediamo più perché le energie di cui poi tu ti circonderai saranno troppo negative per me insomma va bene quindi insomma alla fine lei scappa da tutte le trappole ma poi arriva la trappola definitiva cioè arriva l'uomo che ama l'uomo dei suoi sogni la realizzazione dei suoi desideri ma e quindi non finisce che sono tutti felici e contenti perché perché questo uomo che non era non è perché è ancora vivo non è cattivo non era cattivo diciamo che aveva diciamo non aveva retto a tentazioni luciferiche insomma per farla breve era finita in una loggia nera l'ho detto più volte ne ho parlato tante volte finisce in questa loggia nera in cui lui non fa quelle cose brutte che fanno altri personaggi della loggia e manco li sali per lì lo scopre dopo in questa relazione con Raelle scopre che i suoi colleghi fanno delle cose terribili e e quindi sostanzialmente l'energia a questa loggia alla fine la gliela ha data non solo ma scatta una seconda trappola non solo scatta la trappola dell'amore ma scatta la seconda trappola che un giorno diventa vice primario ma non perché accetta il posto semplicemente perché entra in ospedale e gli dicono guarda adesso firma tanto tu già sei di fatto la vice primaria qua quindi formalizziamo sta cosa lei dice ma io veramente ci vorrei pensare insomma non fa in tempo a scappare come aveva fatto le altre volte quindi firma e io quando mi ha raccontato questa cosa ho detto a lei non glielo ho detto chiaramente perché come fai tanto non l'avrebbe capito lo sentirà adesso in questa trasmissione quando sentirà questo ma all'epoca non glielo potei dire perché non era possibile insomma ho detto vabbè questa è la sua strada e pazienza capivo quando firmò questo capì che la stavo perdendo comunque e perché entri sempre di più in un giro di potere di quel tipo entrerà sempre di più farà sempre più carriera lei che tra l'altro sognava di fare la naturopata la guaritrice perché ha dei poteri straordinari e quindi finché ci aveva il rapporto stretto con me poteva andare verso la naturopatia parlavamo spesso di queste cose io ho regalato il libro di Claudia Renville sulla metamedicina parlavamo di queste cose qua ma ora è sempre più in stradata verso la strada del potere quindi sicuramente da primario poi diventerà forse anche ministro della salute è possibile con i suoi poteri comunque andrà in posti di grande responsabilità non si limiterà neanche a fare il primario e quindi sono due le trappole per cui alla fine energeticamente accerchiata anche se ufficialmente non entrerà mai nella rosa rossa o nelle massonerie deviate o nelle logge deviate anche se secondo me poi ci entrerà pure in futuro ma comunque che cosa succede che è incastrato in un meccanismo che è il meccanismo poi della medicina che è un meccanismo a rimanico Steiner già diceva guardate la medicina sarà sempre più disumanizzata e spersonalizzata e chiunque stia in quel posti a quei livelli di potere purtroppo anche in buona fede ma comunque purtroppo partecipa a questo anche un di maio era in buona fede all'inizio forse in buona fede anche adesso perché perché si perde la coscienza perché cuore oscuro si chiama cuore oscuro perché il cuore si oscura il quarto chakra si chiude quando vai a quei livelli di potere entri in una scala fai una serie di percorsi che ti chiudono il quarto chakra ti chiudono il cuore ti chiudono la capacità di amare di occuparti delle cose che ami cosa può salvare da questo come si fa a salvarci da questo e allora l'amore il padre si salva non solo salva la figlia per amore della figlia l'amore per la figlia fa sì che il padre di Rahel rinunci a tutto il suo potere ma salva anche se stesso infatti poi lui coltiva interessi esoterici eccetera e fa una vita apparentemente normale ma si diverte adesso è in pensione va a sciare va qui va là insomma si gode la vita di fatto ha fatto una scelta che ha salvato anche se stesso per amore della figlia la figlia che scappa da questi ambienti per anni che cosa fa? viene incastrata per amore e con l'amore quindi l'amore può salvare ma può anche dannare e diciamo perché quindi è una storia archetipica questa perché appunto è una storia di come l'amore può dannare è una storia di come l'amore può salvare cuore oscuro descrive bene come la rosa la rosa la rosa rossa che Rael trovava il meccanismo che io ho descritto oscura e nel quarto chakra la persona diventa un automa un vegetale come appunto diventano le persone in questo romanzo e quindi come storia archetipica ma guardate che non è una storia una storia straordinaria e bellissima specialmente la figura di questo padre che è commovente per me anche quando la racconto ma è in realtà l'archetipo serve per capire quello che viviamo noi bene è la stessa cosa che succede a tutti succede a te Fabio succede a me solo che noi siamo presi da forze forse meno potenti anche la persona normale è presa da tutta una serie di forze e dà la sua energia a qualcosa o a qualcuno mentre noi facciamo la trasmissione che va su Youtube diamo la nostra energia a Youtube che è uno strumento che comunque censura fa insomma diciamo non è un bellissimo strumento poi dipende molto dall'uso che se ne fa tutti noi compriamo i cellulari e alimentiamo un sistema che distrugge l'Africa affama le persone dell'Africa per estrarre i minerali di cui sono fatti i nostri cellulari tutti noi diamo energia a qualcosa io ho dato energia al sistema giudiziare quando facevo l'avvocato ho dato energia alla soca caccaia anche se non mi pento perché bisogna dare sempre energia a qualcosa e non possiamo purtroppo non siamo esenti dai legami e legacci con l'ambiente che ci circonda quindi poi dobbiamo arrivare a dei compromessi purché uno si renda conto che è un compromesso quello di comprare il cellulare quello di usare Youtube Facebook questi sono strumenti che potenzialmente non sono strumenti pensati per il bene fanno anche molto bene ma dipende appunto dall'uso che uno se ne fa la soca caccai per me è un'egregola da cui adesso mi distaccherò appena posto mandando la mia raccomandata ma è bellissima per certi versi fa anche molto del bene poi il problema nostro delle persone normali è che con il nostro gesto non sappiamo le conseguenze a lungo termine quali sono delle nostre azioni è quello il grosso problema delle azioni che facciamo l'illuminato un Cristo un Buddha sa la conseguenza delle escezioni anche fra cent'anni ma noi no dobbiamo fare un lavoro su noi stessi ecco perché l'amore danna o salva e quella può essere una salvezza ma non basta perché non è detto che tutti abbiano come il padre di Rael una figlia che amano per cui gli viene questa forza ecco perché l'amore è la forza più potente dell'universo di salvarsi se stesso e salvare l'altro anche perché appunto l'amore può anche dannare è il lavoro spirituale invece quello che conta per evitare queste trappole quindi lavorare cioè su cosa sui nostri desideri su cosa desideriamo e perché e voglio raccontarne un'altra di storia archetipica perché è molto simile a quella di Rael che è quella di Solange che molti conoscono perché sono nostri lettori l'abbiamo invitata Solange che nasce in una famiglia ancora più potente di quella di Rael e fin da piccola anche lei era una predestinata a entrare in certi in certi giri la differenza tra il padre di Solange e il padre di Rael perché il padre di Solange rimane in quell'ambiente cercando però lo stesso di salvare la figlia ma rimanendo in quell'ambiente a meno strumenti a meno possibilità operative poi Solange non ha avuto una nonna straordinaria come Rael saggia con poteri magici che gli ha insegnato tante cose che quindi finché c'era era la nonna che proteggeva Rael Solange no quindi però aveva una forza interiore grandissima quindi si è visto il risultato quando il padre infatti è morto gli ha lasciato tutta una serie di documenti di cose affinché cercasse la verità sia sulla sua morte sia su tante cose e abbiamo fatto questo percorso che molti sanno molti lettori sanno quello che abbiamo fatto ci sono stati libri articoli libri scritti da me libri scritti da lei insomma tutto un lavoro immenso in cui c'era questo dibattito però tra il bene e il male c'erano sempre queste forze che arrivavano per trascinarla dalla parte del male e tutto il rapporto tra me e Solange come quello tra me e Rael è stato un continuo combattere contro questa gente tra l'altro gente che a volte ha fregato anche me non è che solo lei era tentata e ha sbagliato pure io ho fatto delle scelte quasi suicide in passato perché non mi era accorto delle trappole che mi avevano teso però Solange è sempre con la propensione per il bene adesso tutti hanno notato che ha cambiato idea sembra un'altra persona adesso tutto quello che fa il sistema è meraviglioso il vaccino è perfetto il presidente Mattarella è una persona meravigliosa che scalda il cuore e com'è possibile questo cambiamento come si fa a passare così tanto da un'altra parte è perché è il desiderio lei cosa desiderava tanto che insegnare in posti ufficiali insegnare all'università era al suo punto debore è un desiderio legittimo chi è che non sogna di fare carriera nel posto in cui è purtroppo io a un certo punto forse perché questo desiderio l'avevo esaudito io ho insegnato all'università mi sono accorto che ambiente è e sono fuggito a gambe elevate no sono fuggito mi hanno sbattuto fuori diciamo la verità però non è che ho perso molto perché avevo capito in che ambiente stavo insomma quindi appena mi sono occupato di queste cose mi hanno sbattuto fuori e in alcuni casi mi hanno anche detto ma se tu vuoi continuare a mantenere questi vantaggi questi privilegi smetti di occuparti di questa roba e io ho detto grazie continuo tranquillamente sulla mia strada e lei non si è accorta della trappola quindi oggi insegna al master di intelligence dell'università della Calabria insegna con tutte le persone che sono nei servizi segreti sono stati nei servizi segreti in passato l'ambiente è quello e non è che si è accorta di aver cambiato il suo pensiero io la conosco molto bene è incorruttibile e soprattutto è in buona fede è convinta di quello che fa ma ha cambiato il suo pensiero in modo naturale quindi è riconoscibile ed è rientrata in quel sistema che lei combatteva e da cui il padre aveva pure cercato di salvarla eppure Raelle infatti ha fatto la stessa cosa il padre cerca di salvarla ma rientrano nello stesso ambiente quindi il desiderio porta a perdersi quando? se non è accompagnato da un lavoro sull'inconscio e poi invito magari chi non l'ha ascoltata a risentirsi la puntata sui desideri abbiamo fatto l'esempio del genio che avverava i desideri abbiamo parlato di X-File della puntata di James White ma anche la stessa Raelle ha un potere magico di avverare i desideri delle persone che incontra e dei suoi uomini e ha avverato tutti i desideri che io avevo nella mia vita tutti i desideri cioè obiettivamente ho ottenuto tutto quello che volevo però il problema qual è? che se la cosa non è accompagnata da un lavoro interiore quindi un lavoro spirituale vero hai una serie di batoste che ti arrivano dalla realizzazione di questi desideri quindi da una parte infatti è il rapporto che mi ha dato di più nella mia vita ma è anche il rapporto che mi ha dato più batoste e è quello che mi ha costretto a lavorare più su me stesso poi tant'è vero io ho dedicato queste ultime tre o addirittura quattro adesso non ho fatto il conto puntate di a ruota libera perché è stata un'avventura straordinaria ma le botte sui denti che ho preso insomma sono anche uniche in proporzione ai desideri avverati possiamo domandarci possiamo concludere e allora quindi il problema è che è solo tramite il percorso spirituale che possiamo evitare le trappole e il percorso spirituale come ho già detto si riassume in due strade che sono comunque da effettuare in parallelo la prima è comprendere il sistema in cui viviamo e quindi comprendere anche però come funzionano i mondi spirituali che non sono disgiunti dal sistema in cui viviamo perché questo può evitare a portare diciamo a evitarne le trappole ma non basta la comprensione quella è la comprensione intellettuale quella è la conoscenza luciferina in realtà ci vuole un lavoro su noi stessi cioè capire cosa desideriamo cosa amiamo sviluppare ecco quello che insiste sempre Fausto Carotenuto il quarto chakra le forze dell'amore il percorso spirituale quindi deve portare a sviluppare sia questo diciamo sentimento di amore universale poi l'amore per noi stessi l'amore per l'altro perché tutto è collegato all'amore tutto ruota attorno all'amore è per amore come ho detto che ci si dann oppure per amore ci si salva però bisogna stare attenti perché senza un lavoro interiore possiamo scambiare ad esempio l'amore per passione o possiamo amare forse desiderare la cosa sbagliata però tutto tutto ruota perché quando si dice tutto ruota attorno all'amore non è diciamo una banalizzazione new age o una cosa smilata è proprio così tutto ruota poi non solo attorno all'amore per noi stessi ma anche all'amore per le cose che facciamo cosa amiamo veramente cosa ci fa star bene Bartolomeo Pepe cosa amava veramente far star meglio la gente far star meglio gli altri la prima cosa appunto che ha fatto quando l'hanno diventato senatore è scrivermi e dirmi voglio fare qualcosa per te ecco quello è un atto d'amore è fare le cose con amore sapeva benissimo che andava incontro a problemi e rischi se faceva una cosa del genere ma non l'ha fatta solo con me l'ha fatta con tante altre persone che fanno il mio lavoro che lavoro nella controinformazione ha organizzato al senato un convegno in cui c'eravamo io c'era Fausto Carotenuto c'era Solange e Manfredi all'epoca e così via ecco quindi la maggior parte però dei politici purtroppo quando arrivano alla scala ultima sono persone che non fanno più nulla per amore per chi è chiuso al quarto chakra non sanno proprio cosa sia l'amore per gli altri quindi sono privi di empatia ecco come possono scatenare una guerra senza avere il minimo rimorso reagiscono solo gli stimoli esterni agiscono per potere con l'istinto i rettiliani di Ike ad esempio avevamo fatto Fabio con te una trasmissione anni fa che avevamo invitato una psicologa adesso non mi ricordo come si chiamava che parlava di come i soggetti di potere i politici o i grandi dirigenti d'azienda sono tutti psicopatici e dal punto di vista psicologico sono degli psicopatici sono completamente privi di empatia ma perché? perché fin da piccoli vengono lavorati per per escludergli queste facoltà di quarto chakra quindi insomma il padre di Rahel gli lavorano attorno per escludere queste facoltà di quarto chakra ma è l'amore per la figlia che alla fine lo fa redimere diciamo così perché l'amore ci riapre il quarto chakra e quindi da lì possiamo salvarci se capiamo diciamo così la trappola ma tutta la nostra vita è costellata di trappole quindi diciamo che la persona normale è combattuta tra il bene e il male ma i suoi combattimenti diciamo così le sue tentazioni sono minime tradisco il mio parte non lo tradisco la persona media si dibattia questo è il massimo dei problemi che può avere nella vita oppure fotto l'eredità a mio fratello o no la tentazione magari quando ci sono le lotte ereditarie di dire è una tentazione forte c'è un'eredità forte e lì si litiga e lì le persone normali si scorrano su questa roba qua quando una persona è più potente è su una strada su un livello evolutivo molto più alto le lotte sono molto più alte ecco Fiorella nella scorsa puntata che infatti ha dei poteri magici straordinari pure lei simile a quelli di Raelle tra l'altro come ho spiegato ha entità che la guidano e c'è una lotta tra entità però non c'è un'entità solo magari c'è solo l'angelo custode che ci guida sulla via del bene in modo retto dritto senza mai cadere in tentazione ma per carità continuamente arrivano le tentazioni e sono però proporzionate a livello diciamo di evoluzione della persona ecco guardate poco prima poco non è un caso pochi minuti prima della trasmissione ho un'amica che posso considerare tale ma questo ha fatto un vero e proprio patto con un demone ma un demone anche abbastanza potente quindi che mi diceva dopo anni dice ma io adesso sono campata in questo casino ma come faccio io che sono diciamo considerata da tutti in un certo modo ho fatto un percorso sono potente sono e come faccio perché mi ritrovo di fronte a sta difficoltà e io le ho risposto guarda tu sei un demone di fatto non sei neanche una persona perché abbiamo detto volte scorse che queste entità sono poi la manifestazione di un nostro stato di coscienza non sono diverse da noi sono la stessa cosa gli angeli che accompagnano le persone sono manifestazioni di uno stato di coscienza dell'essere umano che è un angelo sono che non lo sa è ancora scisso e il demone è la manifestazione di uno stato di coscienza dell'essere umano che non lo sa è ancora scisso allora dice io mi sono votato a questo demone di fatto sono la stessa cosa e quindi io ho detto tesoro guarda tu sei un demone sarai pure potente ma anche i demoni hanno le loro tentazioni e non è così veloce la strada e mo sono cazzi scusate la parola Fabio anche qui l'altra volta non l'hai cancellata per cortesia me la potresti cancellare qui è tutto in diretta ragazzi tutto come viene genuino sì tesoro ma io capisco che siamo in diretta però la registrazione che mandi poi su youtube la puoi cancellare io ti ho ricordato anche non so perché c'è questo eco improvviso improvviso come mai allora senti Fabio che ore sono a proposito no 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 non dare i numeri no 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 vorrei sapere perché sono un po' stanco capito perché a quest'ora di notte ah ecco ora ora la ti ora la ti capisco la ti capisco bene perfetto a quest'ora di notte sono un po' stanchito no hai ragione no hai ragione hai ragione per questo che ho detto la parola cazzo allora non puoi dire per cortesia l'ora precisa in cui siamo in questo momento ti dico che è l'ora di ieri sera nell'ora di domani no scherzo ti ricordi come si faceva e guarda è tempo che dobbiamo poi rimandare ulteriori valutazioni alla parte finale aspetta un attimo fammi finire però perché è importante almeno la fine di tutto il discorso allora guarda salto una serie di passaggi ma volevo parlare anche di Crowley della famiglia Agnelli però va bene potremmo ma poi comunque sono anche cose che ho detto allora andiamo alla conclusione dammi cinque minuti diciamo noi concludiamo siamo sempre campi di battaglia le forze sono tanto più grandi quanto più è la nostra energia in campo il nostro ruolo nel mondo il nostro livello evolutivo sono tanti i livelli a cui noi dobbiamo combattere Buddha e Cristo vengono tentati direttamente dal demonio anche Krishna ha come avversario un demone che è Kamsa che però ripete è un re ma è chiarissimo nella storia di Krishna per esempio la differenza tra un demone e un essere umano sono la stessa cosa spesso i re i politici ai massimi livelli sono veri e propri demoni perché hanno perso qualunque capacità di empatia e soprattutto sono posseduti da entità che gli fanno fare quello che sono quindi non sono più esseri umani normali però ogni entità è la manifestazione di un nostro stato di coscienza se è vero infatti quello che abbiamo detto nelle puntate precedenti che gli angeli sono la manifestazione di un nostro stato di coscienza lo sono pure i demoni allora quindi hanno ragione i massoni a dire che Satana non esiste Satana è l'uomo nella massima espressione della sua inconsapevolezza è l'uomo nella sua mancanza di amore ecco quello che per esempio si dice non esiste il male il male è solo assenza di bene Satana è solo l'assenza di Dio hanno ragione quindi anche quelli che dicono però che Dio non esiste perché Dio non è un'entità come nel film l'uso ad un certo punto arriva questo Dio che poi guarda caso è negro non ho capito perché Dio nei film americani è sempre negro comunque che non è un essere umano impersonificato a meno che non consideriamo effettivamente personificazione di Dio alcune persone che sono in contatto con Dio San Francesco Buddha Krishna eccetera ma Dio è l'universo è tutto l'universo si chiama universo perché la parola rimanda all'uno verso l'uno universo e se tutto però è Dio lo sono gli animali lo sono i pianeti che sono dei infatti Venere Giove Marte lo è l'acqua tutto è Dio ma se tutto è Dio allora potremmo dire anche che Dio esiste hanno ragione tutte e due dipende dal punto di vista da cui guardiamo la cosa in fondo ha ragione pure l'ateo a dire che Dio non esiste se noi cerchiamo il punto di contatto tra varie tradizioni spirituali anche con l'ateo alla fine arriviamo a una conclusione quindi dobbiamo cercare di capire cosa unisce per esempio i vari sistemi spirituali e qual è la verità universale dietro a tutte le visioni più che le differenze allora ha ragione quindi chi dice che la guerra che stiamo vivendo per esempio e tutte le altre guerre dimenticate perché oggi ci ricorda solo di quella in Ucraina sono veramente il regno di Satana ma questo è un regno che è stato creato da uomini con la loro inconsapevolezza quindi Satana è il male assoluto ma questo male assoluto si arriva tramite una serie di piccoli mali relativi quindi il politico dice che male faccio se mi faccio corrompere qua ma faccio questo piccolo illecito poi però a un certo punto non ti puoi più tirare indietro da fare il massimo del male sono tutte tentazioni materiali di tipo luciferico ecco il cosa desideri di lusi perché te lo danno ma il problema è che se non hai fatto un percorso spirituale desidererai la cosa sbagliata vabbè basta così ho tra un troncato spero di essere stato chiaro perché volevo dire altre cose comunque se tu dici che dobbiamo chiudere che ore sono Fabio? allora senti Caco Paolo noi ci sentiamo nella parte finale è l'ora che arriva Tom Bosco e ci diamo appuntamento nel finale perché è un quesito luciferino per te a dopo guarda Fabio non so quanti hanno capito il nostro scherzo vabbè che è solo tra noi questo scherzo dell'ora che riguarda noi però sappi che a forza di frequentare demoni si diventa un po' demoni ciò che si combatte si diventa come la mia amica Raelle che combatteva sempre la massoneria e adesso è circondata la massoneria però vogliamo rispondere visto quindi se frequento te divento un demone anch'io scherzo no io no non sono un demone lo so lo so per lo meno spero cioè sono un po' sentato e tutte queste mie amiche demoni siccome sono la proiezione di uno stato di coscienza francamente mi fa venire il dubbio ma diciamo che sono un'anima un po' scissa come tu allora diciamo anche perché ho tanti amici Angeli e Roberto Romiti che che è stato prima con noi ti ricordo certo ecco per esempio è uno di questi lo considero un compagno di viaggio uno di questi compagni quando mi si è presentato nella vita con una di quelle sue coincidenze particolari con cui la vita si presenta ho detto ok questo è un personaggio particolare e beh questo è un angelo dai non è un demone insomma senti 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 che poi non è tempo di aprire ma cosa vogliamo rispondere proprio questa abbiamo già parlato tu dici non sei un demone però ci sono alcuni che insistono nel tempo non recentemente ma nel tempo anche dei ricercatori di cui non posso fare nomi ovviamente che sostengono ah io vengo qui in trasmissione perché ci sono i massoni e tra i massoni ci fila dentro sempre anche te come mai Paolo è convinto questo personaggio molto noto è convinto è convinto è convinto e dimmi è chiaro che io frequento molti massoni e per quanto mi sia stato detto in tutte le salse che potevo e dovevo entrare in massoneria ma fin da prima che mi occupassi di queste cose cioè però io per esempio quando prima di occuparmi di massoneria di capire che era entravo a fare le prime riunioni ci sono entrato ma non è che sono entrato iniziato ma mi invitavano così a conosci l'ambiente io siccome vado a istinto con le persone e con le cose c'era qualcosa che non mi quadrava perché parlavano di fratellanza come mi incastravano perché fanno leva sui desideri quale desiderio andavano a toccare dicevano guarda noi facciamo tante cose positive per gli altri ci occupiamo degli altri abbiamo creato questa associazione di beneficenza quest'altra 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 dico ah che bella cosa meravigliosa pensavo benissimo e quindi andavo e poi però vedevo queste persone non parlavano parlavano di tutt'altro mi ricordo uno una volta siccome c'era questa riunione arriva questo con la Roll Royce noi stavamo in un ristorante insomma entra questo e c'era uno che avevo appena conosciuto ah ciao piacere Paolo piacere mi ricordo Franco ecco questo mi guarda guarda la Roll Royce e fa pure tu eh stai per entrare qui quando ce la potremo permettere noi la Roll Royce noi allora premetto che io adoro la Roll Royce sarebbe il mio sogno uno dei giorni più belli della mia vita è stato un mio amico che ha la Roll Royce un giorno mi ha detto Paolo ti vengo a prendere siccome stavo male avevo una febbre lui abita a Roma e devo fare una serie di giri e lui è stato dolcissimo mi ha detto Paolo ti vengo a prendere tra l'altro tu ami la Roll Royce quindi andiamo in Roll Royce e ti porto a fare il giro in banca alle poste questo dove devi andare e è un'occasione Star Roll Royce mi ha portato vabbè più o meno abbiamo abbiamo capito ecco è arrivato aspetta no però non me ne frega niente però di quello quindi questi allora poi aspetta veloce veloce Paolo eh e dopo successivamente ormai la trappola l'ho capita quindi non ci sono mai entrato ma ciò non significa che non posso frequentare i massoni che stimo e se fanno cose belle e positive Magaldi ha scritto quel capolavoro che è l'Eurlogy Gianfranco a me ha dato tantissimo soprattutto come amico come amico vero nel privato e quindi e poi frequento anche c'ho amiche streghe ma streghe che sono veri e propri demoni che dicono di essere un demonio e lo dicono anche apertamente non è un segreto insomma però però c'ho anche persone angeliche certo sono il riflesso forse del mio stato di coscienza questo è chiaro quando sarò un angelo quando sarò Yogananda farò come Yogananda che poi la massoneria non ne voleva manco sentire parlare ma forse non sono ancora a quel livello di coscienza dovrò un po' lavorare insomma non pretendo di essere un illuminato come forse questi pretendono ma se fossero illuminati avrebbero capito qual è la vera realtà diciamo sia mia sia di Border Knights tu per esempio pure chissà frequenti tutti intervisti tutti vuole intervista pure Mario Spezzi cioè quello è proprio il demone incarnato vabbè lasciamolo dov'è grazie grazie Paolo ci risentiamo allora più tardi ok ciao a tutti 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 la musica faccio anche i mesi questi ho fatto un salto di qualità che mi interessa un mostro è questo Aaron è veramente in questi che si sentono di tutto, nel mainstream si sente veramente di tutto e adesso stanno cavalcando questa strage di civili. C'è stata una dichiarazione del governo russo che ha chiaramente smentito e anzi mi risulta, correggimi se sbaglio, ma mi risulta che sia stata chiesta una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite da parte della Russia per discutere e penso che avranno vari elementi per sbugiardare tutta questa narrativa, anche perché basterebbe soltanto questo semplice elemento, il fatto che le truppe russe, e questo è confermato dalle autorità ucraine, avevano già lasciato quel posto da almeno tre giorni e improvvisamente dopo tre giorni che i russi non ci sono più, il giorno dopo la loro partenza c'era stata un comunicato, una dichiarazione da parte ucraina, non so da parte di chi, che però non faceva menzione di nulla e poi improvvisamente tre giorni dopo compaiono questi ammassi di cadaveri nelle strade e salta fuori tutta questa narrativa, che tra l'altro è stata, a cui tra l'altro ha pedissequamente aderito tutto il mainstream, soprattutto con l'italiano, addirittura membri del governo che hanno, le solite dichiarazioni disgustate, il solito letta, ora embargo su petrolio e gas russi, cioè praticamente lui cos'è che ha detto ciò qua davanti, credo la sua dichiarazione, quante buca, bucia servono prima di passare a un embargo completo su petrolio e gas russi, il tempo è finito, l'ha scritto su Twitter, cioè questo mi fa pensare due cose, intanto il livello di questi politicanti, che non sono nemmeno politici, siamo in mano veramente a dei, non ho nemmeno aggettivi sufficienti per definirli, perché come si fa a fare dichiarazioni di una tale gravità senza neanche, non so, verificare, capire, non so, nulla. E soprattutto comunque non mi stupisce perché alla fine, se ci pensi Fabio, un eventuale embargo completo su petrolio e gas russi sarebbe uno degli elementi fondamentali per implementare quel grande R7 che fortemente desiderato è voluto dai maniaci di Davos, ci pensiamo. Quindi il fatto che appunto venga invocato, cioè questi parlano senza neanche, vabbè, embargo completo su petrolio e gas russi. Comunque, poi c'è appunto l'Ucraina che ordina addirittura, cioè ordina, cioè diciamo, leggo qui il comunicato di Klitschko, che è il sindaco di Kiev, che chiede alla Germania e a tutti gli altri stati dell'Unione Europea, ci può essere una sola conseguenza per il mondo intero e per la Germania in particolare, non può più andare un centesimo in Russia, sono soldi insanguinati con cui si massacrano le persone, l'embargo sul gas e sul petrolio russi deve arrivare immediatamente. Adesso questi dicono anche al resto dell'Europa cosa devono fare o non fare, vabbè, comunque di questo si occupa appunto il grande Blondet in un suo articolo, dove poi spiega tra l'altro, espone quello che ho appena detto, cioè le ragioni della Russia che smentisce categoricamente le accuse di crimini di guerra. Adesso vediamo se ci sarà, dovrebbe esserci stata ieri, ma non ho fatto in tempo a verificare se poi c'è stata o no, ma dovrebbe esserci stata appunto questa riunione del Consiglio di sicurezza dell'ONU e vedremo che cosa succederà. Nel frattempo Biden, Bidet, manda all'Ucraina 100 droni kamikaze per contrastare i russi, ma c'è un'altra notizia piuttosto importante secondo me, l'ho trovata da, stavo incrociando varie fonti, adesso è impossibile verificarla al 100%, ma comunque pare che sia stato abbattuto un elicottero militare con a bordo ufficiali, suppongo io, dell'intelligence francese, comunque è stato abbattuto, a bordo c'erano, pare che si trovassero due ufficiali del Dipartimento Principale della Sicurezza Esterna del Ministero della Difesa della Repubblica Francese, tutte queste parole DGSE praticamente, e naturalmente stiamo parlando di un… teoricamente non avrebbe mai dovuto accadere una cosa del genere perché ufficialmente non ci sono ufficiali francesi in Ucraina e invece pare che sia stato abbattuto questo elicottero dove a bordo c'erano questi due ufficiali francesi e pare, dico pare, che si stessero recando a Mariupol per, diciamo così, esfiltrare, come si dice in gergo, alcuni alti importanti membri del famoso, o anzi del famigerato reggimento Azov, cosa che ci sta. L'abbiamo già visto succedere storicamente in infinite occasioni, anche più recentemente in Siria e in altre località dove operavano ufficialmente… sì, dove praticamente, insomma, i membri dell'intelligence di varie nazioni occidentali, parlo da Siria adesso, hanno cercato di organizzare varie operazioni per esfiltrare o evacuare, quando la faccina si faceva, diciamo così, troppo compromettente, i membri dell'Isis e centaglia così. Poi c'è un altro, sempre collegato a questo, adesso vedremo… naturalmente qui rimaniamo nel campo del pare che, ok? Nel pare che, non è possibile avere conferme di questo e tantomeno mai le avremo dai media generalisti, anche qualora venissero confermate queste notizie. Comunque pare, questa è una notizia che tra l'altro mi è raggiunta da persone che mi… molto collegate al… insomma, da alcune mie fonti particolari, questa notizia mi era già stata data ben più di una settimana fa e forse l'ho già citata dalla… comunque praticamente a Mariupol, insieme, diciamo così, ai combattenti del battaglione Azov ci sono almeno 20… beh, chiamiamoli… sono nati lì come istruttori, come consiglieri militari, però sono lì e sono intrappolati insieme a molti combattenti, molti combattenti del famigerato battaglione Azov, almeno una ventina di ufficiali o comunque operativi britannici e americani. E la faccenda è che sono lì ed è impossibile, come hanno tentato di fare i francesi che magari poi, chi lo sa, magari stavano cercando di evacuare almeno una parte di questi qua, più che quelli del battaglione Azov, comunque sono bloccati lì e sarà molto difficile per loro riuscire a lasciare discretamente il centro abitato, quindi vedremo cosa succede. Nel frattempo, che posso dire, il vice primo ministro polacco, nonché presidente del Comitato per la sicurezza e la difesa nazionale, Jaroslav Kaczynski, afferma che se gli americani ci chiedessero di spettare armi nucleari statunitensi in Polonia saremmo aperti a questa possibilità. Aumenterebbe notevolmente la deterrenza contro Mosca. Non so nemmeno come commentare una dichiarazione del genere, ma nel frattempo, vediamo, aspetta un attimo che apro un'altra paginetta, niente, ah sì, questa è una cosetta interessante, ti risulta, è una cosa che è saltata fuori su Facebook, non ho fatto in tempo a controllarne la fonte, ma su Facebook è saltato fuori che in relazione alla questione dei famosi biolabs in Ucraina, quelli finanziati dal Pentagono, in cui tra l'altro era coinvolto Hunter Biden e adesso ci arriveremo perché anche qui c'è qualcosetta da raccontare, pare che ci fosse anche l'Italia, il governo italiano era direttamente coinvolto con il legame tra medici e organizzazioni italiane e lo IECVUM di Kharkiv dove si studiano, conservano e producono patogeni. Cioè praticamente questo articolo, purtroppo non ho fatto in tempo a capire chi l'ha pubblicato, comunque adesso circola su Facebook questa storia, secondo la quale come al solito noi abbiamo il naso dappertutto, le mani in pasta dappertutto, siamo famosi per la pasta quindi non mi stupisce. Comunque questo è quanto, adesso andrò ad approfondire ulteriormente questo dettaglio, ma nel frattempo la questione dei biolabs e soprattutto la questione del famoso laptop di Hunter Biden, che se ricordi bene, credo che siamo stati i primi a trattare, ancora più di due anni fa, se mi ricordo bene. Ne abbiamo parlato quando ancora nessuno ne aveva Alba, ne avevamo parlato proprio in questo format e quindi adesso alla fine, con molto ritardo, con molto ritardo, alla fine questa storia sta saltando fuori. Va bene, c'è un'altra cosa ma ci torneremo dopo. Stavo cercando la questione del… eccola qua, eccola qua, vedi? Praticamente adesso il coniglio è uscito dal cilindro, questa storia è perché se ne sono occupati il New York Times, perfino la CNN, capisco la Fox che è stata una delle prime a tirar fuori l'argomento, ma adesso anche la CNN, la CBS News, il Washington Post sono stati costretti a tirar fuori la questione di Hunter Biden perché la faccenda è saltata fuori durante una udienza al Senato statunitense. Sono stati due senatori, il senatore Gressley e il senatore Johnson che hanno presentato formalmente la questione del laptop, del computer di Hunter Biden in maniera ufficiale. Tra l'altro qua questo laptop include video di Biden che violenta un bambino di 10 anni e cose del genere. Poi ci sono comunque delle immagini che ho proprio davanti agli occhi che naturalmente non vi posso mostrare nemmeno vi mostrei perché sono allucinanti, le avevo già viste parecchio tempo fa, adesso sono risaltate fuori di… mamma mia. Comunque adesso vedremo, vedremo perché adesso c'è in corso un'indagine a livello federale su questa faccenda, ne stanno appunto come dicevo parlando i media mainstream che ho citato poc'anzi e quindi questa volta credo che si andrà fino in fondo. Credo anche che come peraltro avevo già anticipato quando cominciai a parlarne di questa faccenda già un paio di anni fa e anche un po' di più forse, credo che ci saranno delle conseguenze anche per esempio per l'allora, non mi ricordo il nome perdonerete, per l'allora capo dell'FBI che praticamente… l'FBI ricevette questo materiale e lo tenne praticamente lì, non fece niente, lo tenne lì quasi in naftalina per quasi un anno, è ovvio perché era il tempo in cui erano in corso le elezioni presidenziali degli Stati Uniti e potete immaginare cosa sarebbe successo se questa audienza al Senato fosse stata tenuta nel 2019 insomma, il corso delle… che peraltro sono state vinte come sappiamo, sappiamo benissimo insomma, sono state effettivamente vinte da Donald Trump ma poi ufficialmente l'attuale presidente degli Stati Uniti è Sleepy Joe insomma, però sappiamo benissimo chi vinse quelle elezioni che sono state letteralmente sottratte a Donald Trump, ma possiamo anche dire che di fatto il quadro che mi sono fatto io e molti altri come me è che di fatto anche se non in maniera ufficiale, ma l'attuale presidente degli Stati Uniti è tuttora Donald Trump, Biden continua a essere presentato come il presidente degli Stati Uniti d'America quando di fatto non lo è, tant'è che ho qua davanti agli occhi anche un video pazzesco che ne avevo visti altri, ne avevamo anche già parlato, ma se ne è giunto un altro dove praticamente si vede il set dove vengono ripresi… è tutto un gigantesco teatro, cioè un set cinematografico dove viene ripreso Joe Biden nella Casa Bianca che è un set appunto come dicevo, durante le poche volte che viene ripreso durante dichiarazioni ufficiali e tutto questo castello di carte crollerà, prima o poi la faccenda troverà una giusta conclusione anche se probabilmente ci vorrà ancora un po' di tempo, ma ormai ce ne vorrà molto poco perché gli eventi stanno precipitando. Tra l'altro passo da un argomento all'altro perché sono tanti argomenti davanti agli occhi che cerco di collegare al meglio che posso, ma non non è facile. Tornando al… non so se avete sentito che c'è stato un… questo maggiore Alain Bont dell'esercito francese che fa riferimento a una… praticamente… pare che insomma Macron abbia… non si capisce bene perché purtroppo le traduzioni pubblicate in italiano sono quasi indecifrabili a volte, comunque questo maggiore Alain Bont, c'è anche il video, lui ha fatto un Twitter, su questo Twitter c'è il video, lui parla in francese, io il francese non lo capisco, ma comunque è la seconda volta in tre giorni che sento parlare del fatto che le prossime elezioni in Francia o non si terranno o verranno, diciamo così, rimandate a causa dell'attuale crisi ad opera di Macron ovviamente, oppure addirittura credo che si riferisca a questo, questo maggiore in particolare fa riferimento a tutte e due le presidenziali, quelle del 2017 e quella del 2022 che dovrebbe esserci prossimamente e tira in ballo addirittura alle forze armate francesi nel loro complesso che praticamente… non so, pare che Macron abbia colluso pesantemente per manipolare sia le elezioni passate che quelle imminenti, staremo a vedere. Ecco, poi un altro argomento interessante è che quando dico che stanno succedendo delle cose, anche questa credo, ho il video davanti agli occhi e l'ho ascoltato prima, credo che anche questo è un segnale importante, in Australia che abbiamo visto che è stato uno dei paesi dove la pandemenza, dove diciamo così le misure draconiane sono state tra le più pesanti insieme all'Italia, questo senatore Malcolm Roberts dice al primo ministro, al Ministero della Salute, insomma annuncia ai responsabili della gestione della pandemenza, gli eleccanta, li accusa pesantemente e gli prevede che saranno presto arrestati nonché ritenuti responsabili di tutti i crimini, vengono definiti così, relativi alla gestione della pandemenza che citavo prima. Quindi qualcosa si sta muovendo, perché anche in Australia sembravano tutti allineati e coperti invece qualcosa si sta muovendo anche lì. Poi diciamo, l'ho detto anche la settimana scorsa, che un indicatore piuttosto interessante su quello che sta succedendo sono i personaggi di alto rango che improvvisamente risultano positivi al Covid. Adesso, ne avevo citati altri la scorsa settimana, adesso perfino il direttore della CIA, William Barnes, risulta positivo al Covid. Potrebbe essere un altro di quelli che secondo una certa narrativa sono stati presi in custodia da chi sta facendo piazza pulita di tutto quello che è successo. Vediamo un po'. Un'altra notizia interessante, scusate se mi… Ah, eccola qua, eccola qua, scusate ma devo scorrere col mouse da una finestra all'altra. Certo che questa Evergreen si sta rendendo veramente protagonista di cose veramente strane. Vi ricordate che una delle sue navi era rimasta incagliata nel canale di Suez ancora l'anno scorso. Insomma adesso, o li hanno fatto un malocchio oppure comunque c'è un'enorme nave da carico, la Everforward, sempre di proprietà dell'Evergreen, che è rimasta bloccata per oltre due settimane nella baia di Chisapique, proprio al largo di Baltimore. E pare che non riescano a tirarla fuori, cosa piuttosto strana, può darsi. E vabbè, preferisco non dirvi cosa dicono certe fonti complottiste sul reale significato di questa nave lì dove si trova, perché mi sembra un po' grossa. Oddio, potrebbe anche essere. Comunque di fatto, atteniamoci ai fatti incontrovertibili. Il fatto incontrovertibile è che c'è questa grossa nave porta container una volta di più, sempre di proprietà dell'Evergreen, che stavolta si è incagliata al largo di Baltimore. Ed è da due settimane che è incagliata lì e apparentemente non riescono a bloccarla. Poi non so se al momento in cui sto affermando questo nel frattempo l'abbiano disincagliata, però è un fatto piuttosto strano. Poi cos'è che è emerso di interessante? Sono emersi alcuni video in cui si mostrano truppe, suppongo che siano dell'esercito regolare ucraino, che usano le ambulanze della Croce rossa per spostarsi in maniera da non essere rilevati. C'è un video che mostra proprio una cronista che inquadra un'ambulanza da cui sbarcano almeno 6-7 militari dell'esercito ucraino che quindi usano le ambulanze per, diciamo così, esfiltrare, come dicevo prima, oppure per spostarsi da un posto all'altro. E questo, francamente, è ben poco etico. Ma la cosa ancora più strana, c'è un altro video che mostra un carico di cassette della Croce rossa, quindi con tanto di lucchetto tra l'altro. Credo che sia un container pieno di queste casse, più che cassette, sono casse, insomma, davanti alla telecamera vengono aperte e sono piene di contanti. Credo che siano facette di dollari americani, sembrano, ma non posso metterci la mano sul fuoco ognuno di caso. Come mai la Croce rossa, come mai delle cassette della Croce rossa, sono piene zeppe di dollari o quello che è? Molto strano, credo. Va bene, vediamo se c'è altro qui. Vediamo se c'è altro qui. Passo a un'altra finestra. Ah, sì, altra notizia interessante di cui naturalmente nessuno parla. Comunque pare che ci sia stato un tentativo di omicidio del presidente del Kazakistan, qua, nell'articolo... Tra l'altro, scusa, Tom, la sera diffusa su Telegram, ieri mi hanno mandato un video con non so chi sosteneva che addirittura c'era stato un colpo di Stato, che addirittura erano stati arrestati quelli che lavoravano negli hub dei Sieri. Già la cosa mi sembrava ovviamente assurda e poi effettivamente l'unica notizia che si trova è appunto che hanno... due giorni prima ha trovato uno che aveva tentato di uccidere il presidente. Non so come nascano queste narrazioni di questo tipo. Non so, ecco, mi faccio sempre queste domande. Ma anche io me le faccio, ovviamente, come te. Comunque, diciamo, il fatto che il tentativo di... il presunto, chiamiamola così, il presunto tentativo di omicidio pare che sia reale. Poi quello che c'è... Sì, sì, quello è reale. Era stato lanciato anche da varie agenzie. Invece questo post su Telegram c'era un video che poi poteva essere girato ovunque, che si vedeva delle persone che correvano in strada ma non si capiva niente. e poi con tutti questi assunti, ovviamente, qual era la teoria che sostanzialmente questo colpo di Stato sarebbe stato un altro colpo al globalismo, no? Sai, quella storia che appunto vorrebbe qualcuno... Poi ci sono anche colleghi, tra virgolette, che quando i fatti smentiscono quello che hanno sempre detto, poi censurano... Mi riferisco a un noto, non voglio citarlo, a un noto personaggio che diffonde su Telegram da tempo determinate notizie e che sosteneva, ad esempio, che dopo il 31 marzo sarebbe finito tutto. Ovviamente non è finito nulla e qualcuno gliel'ha fatto notare e lui applica la stessa censura che ha denunciato in passato. Vabbè, comunque, chiusa la parentesi a te. No, infatti io preferisco piuttosto, eventualmente, se faccio delle affermazioni che poi non risultassero avere, mi cospargo il capo di cenere e ammetto tranquillamente la mia cappella, come si dice. Ecco, vabbè. Comunque, ognuno è responsabile delle proprie azioni, quindi lasciamo stare. Ah no, un aspetto, tornando a bomba, alla questione di buccia con cui avevo aperto, diciamo così, le notizie che stanno, quello che sta avvenendo, un aspetto interessante è che il Pentagono non ha… Vedi, questo è il punto. Ma perché i media? Perché gli stessi media negli Stati Uniti, mi riferisco, per esempio, a la trasmissione Margaret Brennan della CBS, allora, sto traducendo dall'inglese quello che ha dichiarato, no? Margaret Brennan della CBS ammette che la squadra di Zelensky ha fornito, ha fornito alla redazione di CBS, cioè a lei, foto e video che poi sono state naturalmente mostrate nella TV, parlo delle foto e le video dei cadavri di buccia. Allora, praticamente, no, allora, il discorso è che hanno mandato in onda, come peraltro hanno fatto in media nostrani, hanno mandato in onda tutte queste immagini senza uno straccio di verifica, laddove il Pentagono, affermazione ufficiale, il Pentagono non può confermare in maniera indipendente le atrocità relative a buccia in Ucraina. Praticamente il Pentagono dice, sì, ci sono queste cose che girano, ma noi non abbiamo alcun modo per poter verificare di che cosa si tratti, non possiamo verificare l'autenticità di queste presunte atrocità. Però, diciamo così, il mainstream, senza tener conto di valutazioni piuttosto importanti come quelle del Pentagono, che naturalmente è collegato ai vari servizi di intelligence, va a spada tratta a raccontare di Putin criminale di guerra, lo stesso Biden che dice, avete visto cos'è accaduto a buccia, è un criminale di guerra, niente, vabbè, comunque ne abbiamo già parlato, è soltanto un'altra, perché sono davanti a un'altra pagina che praticamente esamina tutti gli elementi che smontano completamente quello che abbiamo visto e sentito in questi giorni intorno a buccia. Poi qui ce n'è un'altra, ma non credo che sia particolarmente interessante. Siccome sentiamo parlare, Putin ha trovato una resistenza ucraina più forte del previsto, Putin sta perdendo, Putin non sa cosa fare. Intanto però, qua leggo che ben 263 soldati ufficiali del 503esimo battaglione indipendente della marina ucraina, i marines ucraini, si sono arresi a Mariupol e tra l'altro quelli che sono rimasti, perché il 50% di questo battaglione purtroppo sono caduti, alla faccia d'è, mi sembra che quello che stanno portando avanti la strategia, pur con qualche intoppo siccome in giro veramente si sente su tutti i mainstream, ah Putin dobbiamo stare attenti, Putin è in difficoltà, potrebbe portare avanti la narrativa del Putin pazzo, criminale etc., che potrebbe a un certo punto messo all'angolo ricorrere agli armi nucleari, perché questa è la narrativa che stanno cercando di portare avanti, di fatto invece mi sembra che pur con i tempi che noi non sappiamo quali sono, questo è il punto, noi pensiamo di sapere quali sono i tempi, pensiamo che a questo punto se l'Ucraina ancora non è caduta è perché gli ucraini hanno posto resistenza anche grazie ai sistemi d'arma forniti dagli occidentali, tra l'altro, apro una parentesi, l'elicottero con i francesi a cui facevo riferimento prima, pare che sia stato tirato giù dalle spese proprio da uno stinger di quelli forniti agli ucraini, ecco, chiudo la parentesi. Vabbè, quindi ci sono anche altre… ah sì, visto che un attimo fa sto passando di panno in frasca perché purtroppo è un po' difficile ordinare sequenzialmente tutte queste notizie che sto citando, ma quando prima mi riferivo a queste strane dimissioni, eccone un'altra, anche il vice capo di gabinetto di Cammella Harris ha mollato la barca, cioè quando la barca affonda i topi sono i primi ad abbandonarla e quello l'abbiamo già visto succedere, l'ho già citato nelle scorse settimane, qua i topi stanno proprio abbandonando la nave che affonda a tutti gli effetti. Vediamo cos'altro qui, no questo non ci interessa, questo non ci interessa, diciamo che potrei concludere con questa cosa qui, ovvero sia, pensate un po', credo che i contribuenti americani non saranno, alla luce di quello che sta succedendo, non saranno molto felici di sapere che c'è i membri dei servizi segreti che controllano Hunter Biden, Hunter Biden vive a Malibu, una gran bella villa e per tenerlo d'occhio i servizi segreti hanno affittato al costo di 30 mila dollari al mese, hanno affittato la villa proprio accanto a quella di Hunter Biden, hanno affittato questa villa in stile spagnolo con una magnifica vista sull'oceano per tener d'occhio Hunter Biden, quindi già Hunter Biden abbiamo detto prima di che cosa sta emergendo riguardo i suoi legami con l'Ucraina, ricordiamo la questione della Burisma, i suoi legami con la Cina, pare che abbia ricevuto non so quanti milioni di dollari per i suoi rapporti con un'azienda nel campo dell'energia dalla Cina, poi la questione della pedofilia eccetera, sta saltando fuori di tutto di più e per tenerlo d'occhio, visto che ancora non c'è stato evidentemente, non so quanto possa aspettare ancora un'incriminazione formale nei suoi confronti, comunque visto che ancora non è formalmente incriminato, i servizi segreti per tenerlo d'occhio devono spendere 30 mila dollari al mese per l'affitto di questa magnifica villa. Vabbè, direi che sognando la California, Malibu California, con questo e tutto vi ridò la linea caro Fabio, direi che per oggi può andare bene così. scritto Coda di Lupo, che innanzitutto in ogni caso conclude con un messaggio in, credo in russo, un messaggio quindi benevolo, non che noi siamo filo russi, ma per dire che era benevolo anche rispetto a quello che tu avevi detto, il significato in italiano è vittoria per la madre russia, però rilevava che il famoso video che tu hai citato l'altra volta della giornalista fantomatica che cambia gli sfondi dice lui che è chiaramente una parodia e poi che... Sì, certo, ma probabilmente è così, probabilmente è una parodia, però in ogni caso, no, scusa se ti interrompo, probabilmente è una parodia, ma comunque è un video che mostra a chi ancora non lo volesse vedere, e ti garantisco che c'è molta gente che queste cose non le sa, ma mostra come è facile oggi rappresentare attraverso i media mainstream delle realtà virtuali, tra l'altro ancora parecchi anni fa, quando ho perso il conto di quanti anni fa venne pubblicato un video in cui Russia Today praticamente ha fatto un video per una parodia, cioè si ride di se stesso, no? Cioè era proprio tutto questo video in cui si vede l'arrivo della direttrice, all'epoca, non so se è ancora lei, della direttrice di Russia Today che arriva col classico, sai il classico berretto di pelo russo, no, è presente, no, che arriva, c'è un pallet, un tir che sta scaricando pallet di banconote, no, con cui loro sarebbero finanziati e comprati, e lei poi entra nella sede, insomma fa un giro, cioè è tutta una gigantesca parodia, divertentissima, in cui loro prendono in giro se stessi, no, cioè praticamente si mostrano come gli occidentali probabilmente pensano che sia Russia Today, cioè corrotti, manipolatori, e c'è una scena in cui praticamente si vede un corrispondente dai teatri di guerra di qualche anno fa, tanto c'è sempre una guerra dove compare, dove potrebbe, e si vede questa qui davanti a uno schermo verde, a un green screen o chroma key, come si usa dire in gergo tecnico, e in questo video si vede proprio che lo sfondo cambia, che ci sono dei disturbi, cioè per far vedere, ah vedete Russia Today in effetti i suoi corrispondenti di guerra in realtà sono tutti dei bufalari, cioè prendeva in giro se stessa mostrando più o meno quello che si vede nel video che è appena citato, scusami se ti ho interrotto, e cosa dice? Poi Coda di Lupo aggiunge che per il discorso del gas USA e le navi il conto che è stato fatto è sbagliato, 266 mila di GNL equivalgono a 160 milioni di metri cubi di gas, la liquefazione serve a comprimere, la rigassificazione espanda il gas, quindi per 15 miliardi di metri cubi sono necessarie 94 navi di quella portata. Sì, sì sì, me ne ero accorto da solo, solo che adesso avevo anche rimosso la cappella, comunque me ne ero accorto da solo che i conti non tornavano riguardando le cifre, e quindi ringrazio Coda di Lupo assolutamente per la sua precisazione, e niente, a questo punto se non c'è altro possiamo concludere, oppure posso aggiungere un'altra cosetta che è saltata fuori, visto che mi è venuto in mente adesso, che l'Ucraina che aveva commissionato, è un documento che è saltato fuori ancora a dicembre, quindi prima che avvenisse tutto il casino, a dicembre pare che l'Ucraina avesse commissionato un certo numero di droni turchi, di cui abbiamo anche sentito parlare nelle ultime settimane, e aveva richiesto specificamente che fossero attrezzati per poter disperdere aerosol, cioè praticamente se possiamo anche collegare la questione di droni apti a disperdere materiale aerosol, diciamo così, con la questione dei laboratori biologici di cui abbiamo parlato e di cui tanto si parla, per lo meno in certi ambienti in questi giorni. Ecco, concludo con questa specifica che secondo me è interessante, credo che se ne occupi anche Blondet, mi sembra di aver visto che anche lui ha citato questo documento. Comunque dai, adesso veramente concluso e stiamo a vedere la prossima settimana di che cosa parleremo, vedremo. Pronti per la tua benedizione. Lunga vita e prosperità a tutti. Per la tua benedizione. Per la tua benedizione. Per la tua benedizione. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti